Buon pomeriggio Buonasera No è pomeriggio No è più sera È pomeriggio Le 16 Ascolta secondo me è pomeriggio solo qui in Sardegna Steph Cioè le 16 secondo me sono già sera Quindi buonasera È pomeriggio Dalle 17 in poi è sera Dici Anche secondo me Eh però secondo me noi abbiamo una visione un po' strana della sera e del pomeriggio Quindi non lo so Ma non lo so secondo me ce l'hanno tutti un po' strana Vabbè è uguale abbiamo detto sia buon pomeriggio che buonasera Quindi abbiamo detto tutto Ciao a tutti i consolini Direi che la notifica è arrivata perché vedo una bella maria di ciao Quindi benvenuti Quest'oggi ci vedrete impazzire insieme a Gonx Esperto dell'impazzire in questa mappa E proviamo un po' la Cheezors Poi magari proviamo a finirci anche l'Avalanche Che è una mappa che se vi ricordate abbiamo già portato in video Che non siamo riusciti a terminare Esatto Insomma facciamo un po' di custom mapping Passiamo tutti insieme e ci divertiamo un pochino Partiamo in ogni caso dalla Cheezors Dead Run 2.0 Che non ho mai e dico mai provato in vita mia Beh io ho avuto il trauma dopo che ho provato la 1 Quindi la 2 ho fatto no niente la provo E oggi Steph mi fa una live Mi raccomando state attenti Steph Perché avranno nuove clip per fare i video di nuovo sulle nostre parolacce Perché penso che oggi finirà malissimo Sì beh in live è impossibile resistere Sì no Cosa rassicurante Ok Tu hai resistito? Non posso dirlo Non posso dirlo Perché non è ancora uscito il video Ok va bene Allora cosa metto qua? Facciamo una finestra di libertà che non avremo No ma c'è la lag ha rovinato la mia scena Sì bisogna aspettare che carichi da quanto ci mette Quanto ci mette? Non lo so Dovremmo poter fare redi adesso che sentiamo le trappole Ok Allora iniziamo a vedere un po' di donazioni No mentre siamo già 8000 Quindi ciao a tutti quelli che sono entrati Ciao a tutti Slenderman 2 euro Buon pomeriggio ragazzi Ciao Gong Se vedi che ha scritto anche lui buon pomeriggio Quindi pomeriggio Ciao Slenderman Ciao Slenderman E poi grazie Emanuele e Filippetto per la donazione di 1 euro E Galaxy S7 Pro per esserti abbonato Iniziano già gli abbonamenti Allora quindi ci siamo? Ferma Ferre ferma Voglio far notare una cosa Guardate la maglietta di Ferre Ah sì Ho un numero 8 ragazzi Io spero di arrivarci con loro Ma io non credo che ci arriveremo all'8 Ma infatti Allora qua comunque c'è 8 Allora so soltanto che qua c'è una trappola Che bisogna fare così Perché l'ho visto in un Comunque E lì sotto ce n'è un'altra Gongs tu che l'hai già fatta Ma è pensata anche per schippare dei livelli Perché qua c'è un 8 Qua c'è un 4 Credo che se li vuoi provare Giusto? Allora Per non doverti fare tutto dal livello 1 E magari sei bloccato al 4 Vai qui e prendi il 4 Ok Ok ho capito Vabbè Iniziamo Oh mio dio Sono stato attento a Ferre Ah è stato bello Sì è stato molto divertente Vabbè È finita la live Arrivederci Grazie mille di Amel per il settimo nato Grazie a Maura Locatelli per l'anzione 229 Grazie a Abderrahim Fares per l'anzione di 2 euro Che computer è staff? È assemblato Quindi vuol dire che tutti i pezzi sono messi insieme Ferre non sei stata attenta C'è una trappola anche sotto Ma c'è Ho triggerato la prima E non passo nella seconda Ah Gonx basta saltare per la seconda Ok Ah ok Allora secondo me io questo parkour non dico che lo farò al primo tentativo ma quasi Tipo 5 tentativi mi do Ed è la prima volta in assoluto che lo provo Io non so triggerare le trappole raga Forse diventerò esperta No forse diventerò esperta dopo Dopo aver provato per 3 ore il livello 1 Però Non ci riesco proprio Allora Questo è il salto più difficile vero Gonx? Cosa? Il salto più difficile è questo che sto per fare? Aspetta che sono morto arrivo Vabbè Era sì era quello Ok Raga First try Ok Mettiamo qualcosa di bello Allora Non l'ho mai provato ma l'avevo visto in video Che comunque secondo me dà comunque una mano per capire come fare i salti E come affrontare le cose Allora il più difficile è questo Sì L'avete detto quindi è quello che sbaglierò Qui Ma non ci credo E questo è difficile? No Ma che io non riesco a fare il primo salto E non è saltato Lo sto facendo apposta Grande Bravo Perché mi hai fatto emozionare mi stai fissando Non mi dovete guardare Allora io leggo le donazioni Grazie T.I.Wolf29 Per un franco svizzero Grazie Lucchino24 Per una donazione di un euro Grazie A Kipri34 A TVY Nick790 Ia NicoDab E ad Alex8989 Per esservi abbonati Grazie A Daniela Cristofori Per donazioni di 229 Che ho scritto avviamo Ciao Daniela Grazie Poi grazie Ad Arturo Lobuglio Amelia Russo E Michele Mugeo Per esservi abbonati Che è arrivato? Grazie Gonzo? Sì Ok Iniziamo ad andare? Sì sì Andate andate Dai io me la faccio con calma Tranquilli Allora Qua so soltanto che tipo bisogna fare così Anche sì Oppure saltare direttamente sull'altra No non è roba per me quella Ok pensavo di essere morto francamente No non mi ha saltato il personaggio Perché? Un consiglio lo volete? Andate nelle impostazioni E mettete Toggle Sprint Off Ok fammi vedere Oh Gonx Ho fatto due livelli su due First try Ma hai provato in vita mia E questo è perché ti stai allenando con altre mappe Sì 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 Sto facendo solo queste mappe Che vanno in pazzina Io sono già sto off Quindi lo mollo così Ok perfetto Grazie Vincenzo Mastro Per il settimo nato E grazie Leonardo Varacalli Per la danzione di un euro Raga faccio la zero death A parte che sono morto prima di iniziare i livelli Non vale lo stesso per Gonx Oggi Eh mi devo riscaldare Ah guarda Tantate tutto il tempo del mondo con sta mappa Allora Qual è il codice della mappa? Credo di avercelo ancora in copia e colla Quindi ve lo spambo un pochino in chat Così vi potete acchiappare il codice della mappa Ci sta E ve la provate pure voi Ok No perché sbaglio sempre lo stesso punto E sono imbecille Credo che Ferro a un certo punto dovrà guardare Oh no Questo non lo faccio al primo tentativo Ma infatti Neanche il primo salto ho fatto Ghiaccio più salti No bueno Tu 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 Grazie Leonardo Varacalli per la danzione di un euro E grazie Matteo Borotti per esserti abbonato Ok Vai Gonx Vabbè io mi ho fatto i trifattini in stas Non mi importa Gonx quanto è difficile questo? Bisogna saltare all'ultimissimo giusto? No No Bisogna saltare quando si trigger la trappola di terra Trigger la trappola di terra Questa di ghiaccio ok Aspettami Ok ti sto aspettando qua Ok Ora seguimi Ok Quando si triggera quella lì a metà livello? Questa Però devi farla in corsa E devi saltare sulla Quella di sbiecco Adesso te lo faccio vedere facendo Ok Ti seguo vai Perché Qui Ti giuro mi è tiltato il cervello Però Oddio Ma è un casino Sì Ok Allora Ma mi prende la trappola E io vado così A livello 2 Perché mi prendo le trappole? Perché devi saltare Ho fatto scendere un imparto Arrivi salti E poi E poi fai il salto dopo Dai guarda Grazie Aspetta Leonardo Vitacchio Per le anzioni di 1 euro Grazie Hermes Biocati Rinaldi Per le anzioni di 0,99 Vai Allora qua Non devi scendere dritto Devi saltare su questo E poi scendere Sempre tutto in shift Aspetta Ma per me non ha senso Cosa cambia? Ti dà più velocità Aaaaa Mi piace o prende velocità In base a quanto ci salti sopra O a quelle velocità Anche arrivando Ok Ma è un casino Eh Stef Non l'ho capito Ma lo spieghi Non ho capito dove devo andare Ferri devi farli Ma quando atterri sulle cose Fai un saltello sul tuo stesso posto Tu arrivi nel Salta Ok Vai lì E fai un altro saltello Vaci Ma mi uccide la trappola No vai e salta Eh vabbè adesso ho capito Ci salito per fare un salto Ah non avevo capito sto meccanico Ok dai Adesso me la provo Livello 2 forever per me Ok Gonx ho capito Capito? Sì Grazie Cassandra Ciniglio per la danzione di un euro Grazie Simone Leccese per il settimo nato E grazie Galaxy S7 Proprio la danzione di un euro Can I join? Yes Questo è il mio amico internazionale Ok Chi è? Allora Era nato Ah Ok Ho saltato troppo Non ci credo Ok però sono arrivato a mettere il livello 2 Ok Ok A volte salti troppo al primo E a volte si salta troppo dal primo al secondo Devi saltare proprio nel momento giusto È un casino questo livello Ma a me ha Ha notato? No a me a me Quello è facilissimo fare Non rompere Ho già nato Grazie e matita 06 per il settimo nato Gli ero scritta Allora mi sto prendendo la shot pure io Nel frattempo che sto Ma dai ma salto Respirando Cercando di capire Come fare le cose Buon di Ciao Nat Ciao Alla Allora Ho invito l'invito? No mi sono invito Nat siamo a livello 3 Invitato Ah Ma Vado troppo veloce Vado troppo veloce Se non fate il livello 3 Poi non sperate di fare il livello 9 E grazie a GKSTV E grazie a Samantha Melle Per essere abbonati E poi non so se Mi viene il dubbio E poi Abderram Fareste Donazione 2 euro Gongs ti ricordi di me Nella live di ieri Gongs è responsabilità Sì sì me lo ricordo Vabbè ho saltato troppo presto adesso Da fastidio non capire Quando devo saltare Da fastidio che a volte Non salta quando sei sulle pedane Anche Anche Perché una volta l'ho fatto perfetto Ma smette di saltare Perché C'è la cosa L'eshost Sì No Ok Ok Sto capello Sì infatti mi stava laggando Maria Coppola Grazie per essere abbonata Maria Coppola Dicono tutti guarda in basso Grazie Martina E Trevini per tanzioni di 2 euro Non funziona sempre di guardare in basso Ah ok Ma l'ho detto anche in live Mi sono riuscito Ma penso sia stato Piuttosto Fortuna Eh scrivevano tutti Guarda in basso Guarda in basso Guarda in basso Grazie tv Dark lion per essere abbonato Ok No ma Ma ce lo so Dai che noia Ovviamente ragazzi Sto andando molto corto Per trovare il punto perfetto Perché prima Sto andando troppo lungo Quindi sto cercando Di calibrare i salti Devi saltare Quasi subito Dopo la metà Dell'ultima trappola Mi piaccio Aspetta che ti devo mutare Ok ciao Fatta Grazie roxy rockstar Per esserti abbonato Grazie a the world Per adanzione di 1 euro Allora io muoio a questo salto Gonx Cioè a quelli dopo Perché mi viene l'ansia E quindi muoio È molto lungo Ah appunto Grazie Galaxy S7 Pro Per adanzione di 1 euro Mi dispiace che vi farò vedere Livello 3 per sempre Grazie Alessandro Alessandro Per esserti abbonato Salta subito Perfetto Qui Ok Ma anche lì di fronte Mi prende la trappola Qua no Ok Quindi devo fare solo questi ultimi No Mi sono emozionata Ti avessi risaltato lì Lo so Mi sono emozionata No Non fanno per me i parkour Cioè io lo dico chiaramente Perché mi viene l'ansia Quindi mi emozione Cado E faccio più errori Di quelli che farei normalmente Grazie a te E Michaluzzi Per esserti abbonata Dai piano piano Comunque ormai ho capito Il mood Quindi Poi ce la faccio Vado su Ah Ero messa male Leonardo Vitacchio 2 euro Stave 23 a 7 Supporta creator Asma live Grazie mille Leonardo E grazie a Luca Bocchi Per esserti abbonato No livello 3 Davvero complesso Allora In ordine di difficoltà Secondo me ci sono Tra i tre più difficili Che per il momento ho provato Ok Livello 3 Livello 9 E poi livello 8 Che proprio al momento È l'assoluto Ok Mamma mia Grazie a Sv del Lauro Per esserti abbonato A quando non salta A quando va troppo in alto A quando va troppo in basso Non mi è saltato il personale Grazie a Sv Palmieri 07 Per esserti abbonato Ma non è saltato Comunque ti dicono Sempre tutti i guarda in basso Non so cosa voglia dire Guarda in basso Guarda in basso Guarda in basso Serve nell'ultima Per non schiacciare la cacca Ah ok va bene A quello A saltare nel momento giusto Nella trappola Però una volta che capisci Quello dal suono No l'ultimo A me viene molto naturale A livello visivo Decide dove saltare E il discorso è che qua Cambia di un micro Guarda la pazienza E faccio errori Sempre più stupidi Sì Totalmente C'è cose che faccio Tranquillamente Continuo a sbagliarle voi Ma infatti la cosa Che logora Ripeti 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 Cosa che sia comunque Il senso di ste mappe Poco ci si può fare Comunque se io supero Il livello 4 Vi aspetto lì Perché se non lo superate C'è un metodo Per superarlo Ok Gliciando Non gliciando ma Ah ecco not Non puoi farlo Grazie a Berna Gamer Donazione di 0,99 Grazie a Luigi Caprile E grazie a Luca Mariani YouTube Per esservi abbonati Thank you Dai non riesco più A fare l'ultimo salto Però che noia Grazie anche a Virginia Rossi Però donazione 0,99 Non riesco a capire Quanto è lungo L'ultimo E quindi non riesco A prendere bene La rincorsa Ce la faremo Io non lo so Non ho saltato Sono andato dritto Proprio non ho premuto Nemmeno spesso Ormai sono già morti In tutti i modi In cui si può morire In questo livello Io Allora La fatica è un problema Lo so Grazie Matteo Bocchetti Per esserti abbonato Perché devi azzeccare Tutte le distanze Ma riuscire anche A gestire la fatiga Dai perché non mi salta Quella la cosa fatidiosa Saltasse sempre Andrebbe bene Grazie Gianfrino 08 Per esserti abbonato Che bello Morire tutto il tempo Grazie Umberto Tupini Per l'anzione di un euro Fatto Olè anche Nat È arrivato Vabbè Nat Per te ormai L'usì livello 4 Ti voglio vedere A farlo dal primo colpo Perché io non ci riuscirò Grazie Virginia Rossi D'anzione 229 Ciao vi voglio bene Ciao grazie Virginia Ciao grazie Grazie Leonardo Vitacchio Per l'anzione di 2 euro E per favore Se utilizzesti Lorenzo Dallora Ciao Lorenzo Dallora Grazie poi a Burwin04 Per esserti abbonato No mi mancava l'ultimo Cavolo Io pensavo Quello sia andato dritto L'avresti preso Vabbè vi aspetto O vado avanti io No vai tranquillo Vai tranquillo Che tanto poi ci sono Le parti degli impulsi Io sto aspettando Per triggerarli poi Il livello 4 Se non ce la faccio No Che fastidio E grazie A Zellarab E Belourad Per l'addonzione di 2 euro Prima o poi imparerò A dire tutti i vostri nomi Ah questa era giusta 8 Grazie Denise Dalla CIA Per esserti abbonato Beh comunque Secondo tempo Buono Vare come si è messa Ce la fai? L'ultimo L'ultimo salto Sbaglio sempre Questo Non riesco ad arrivare lì Grazie Galaxy S7 Pro Non so se mi vedi vabbè Per l'anzione di un euro Comunque Ti salto vedo la tua testa L'ultimo L'ultimo tassellino Sai Prima di arrivare poi Al traguardo Quello mi manca Stai saltando troppo tardi Nella discesa Non capisco Non capisco Quando finisci la discesa Devi aspettare a metà Della Della trappola E come la superi Salti subito Ma così va Troppo lento Stai premendo shift Sì Sì Prova poco poco più Più oltre la metà Ok Allora E Questo era buono Manca un millimetro Michele Marchio 229 Ferema da bambina Eri l'allenatrice di John Cena Non so perché What? Forse perché Pesti tutti Ferema Ma penso Che è praticamente Impossibile No don't Anche perché è più grande Avrà tipo 40 A quanto ha 45 anni ormai È vecchio John Cena Non lo so John Cena è vecchio ormai Grazie Jack la rinfusa Per esserti abbonato Probabilmente quando lui Magari era abbastanza giovane Non ero neanche nato Che fosse impossibile Anche volendo Non lo so Grazie Virginia Rossi Per le azioni 099 Stef mi dai un consiglietto al volo Questo dove devo puntare Per prendere Non riesco a prendere l'ultimo Un pochino più a sinistra Un pochino più Così Cioè più di così Sì però Non riesco a farlo di così Eh è quello il problema Non riesco ad arrivarci Vai Ce l'hai Mi puoi far vedere Comunque È questo Che non riesco a fare Scusa Guarda Proviamo al contrario No se stai qua Mi fai cascare Rincorsa al massimo Vedi però Quando sono sospeso in aria Sì devi stare proprio Nel bordo 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 E salta dall'ultimo Uh ok Adesso Ok Stavo fatto Ah benvenuta cara Era meglio stare lì Io sono lenta Io sono lenta Però quella che non la faccio Mi sono indicata di saltare Perché stavo pensando a Fer Allora Fer Sta roba non la puoi fare a caso Quindi ti faccio vedere un attimo Sì un secondo Per quanto io non riesca a farlo Allora Fer non ti aspetterò Pazienza Allora Ok Sto muovendo delle cose Sto muovendo a livello 4 E basta andare indietro Basta Perché Allora Fer In poche parole Tu cammini sulla trappola ghiacciata Salti per arrivare Tanto non ti stai ascoltando Te lo dico già No Ascolta Ascolta Salti per arrivare in quella indiscesa Come ha fatto Steph adesso Ok Bella Steph No Qua è saldato troppo presto Per l'ultimo Ma però è impossibile Ok Praticamente Dopo che finisci la discesa C'è l'ultima trappola finale Di ghiaccio E devi saltare Poco dopo Oltre la metà Allora guardo Steph Allora Devi prendere Fare questo saltello E poi correre Altrimenti non è abbastanza velocità Ok Dopo che è tutto A giocare i tempismi di salto Non viene anche saltato Sono andata dritta Dario Carla Grazie per l'anzione 229 Ce la farete A fare il livello 3 Primo poi sì Il resto non lo so Eh boh Il senso penso sia questo Di stare a provarle all'infinito Poi sì C'è magari chi ci riesce prima Purtroppo non salta Non salta Cavolo Ah Steph È presente quel record Che mi avevi mandato Sì Già battuto No era fake Davvero Ha rallentato il timer Nel video Ci ha messo tipo 7 minuti Qualcosa No Ma che senti Potevi saltare lì Eh Gongs O salto troppo presto O non riesco a saltare Perché salto troppo tardi Sono in quelle limbo lì Allora Steph Io salto Prendo la seconda Ma poi non mi parte il salto Dopo che Perché devi gestirlo Cioè fammi vedere A me qua non parte il salto Capito È tutti i tempismi Tipo io qua Ho saldato troppo presto Per fare l'ultimo Ok Non so se ve ne siete accorti Ma c'è La seconda Che è leggermente È più a sinistra Di quella Sì ma ve l'ho superata Ho superato Ho superato il primo Questo è perché salto Troppo tardi Steph sta iniziando a capire Troppo tardi Io ti inizio a giocare Sempre il ritmo Cristian d'Arco Grazie per essere ti abbonato Però manca ancora Qualcosina No sì Salto troppo tardi Ok Devo saltare prima Dai voglio liberarmi Del livello 3 Cavolo Ma ho aspettato troppo È più facile del 3 Ho aspettato troppo Grazie Virginia e Rossi Per danza di 099 Ah ce l'hai fatta Perché l'impulso Perché sono tornato indietro Senza prendere il checkpoint Allora Sto capendo il tempismo Capito Perché se si staccano L'impulso Non funziona più niente Vero? Cosa? Perché se si staccano L'impulso Non funziona più niente Quindi occhio a dove muori Si staccano l'impulso E si staccano L'impulso Nella Vicino Allo spawner Non funziona più nulla Non ho capito nulla Vabbè Quasi Ce l'avevo fatta Ce l'avevo quasi fatta Ma è possibile Non lo so È affestata totalmente Non mi è saltato All'ultimo Capito Mi ha fatto il salto Troppo basso Ah che nervoso Ma perché io non riesco A fare l'ultimo? Allora Che poi è il penultimo Però Giulio 2007 Grazie per il certe Buon atto Da Ah Non mi ha saltato Yeah yeah Infatti è difficile Come fai a capire Come gestire la fatica Cioè come fai? Ah quello è il ritmo Però non riesco A fare l'ultimo salto Ho capito Che ritmo però No Troppo Perché vado troppo lunga? Devi saltare Troppo tardi All'inizio Come atterri sul primo Coso In modo da non aspettare E arrivare troppo lungo Sul secondo Adesso è saltato troppo Sì lo so Sbagliato tutto Cioè non è saltato Mene solo Esatto Ragazzi Sanzate a metà Dell'ultimo blocco Ovvio a metà Sì vabbè L'ho capito Ma è difficile Prendere il tempo in nuovo Quando sei veloce Quello è il fatto Perché vedo Steph Che non lo fa Capito No non ha saltato Ah Rinizio Rinizio Che poi è una tortura Anche morire Perché stai Continuandoci Sì E non muori subito Perché stivi Le trappole Grazie Emanuele Baravaglio Per l'anze 229 E grazie Due strizzacervelli Per esserti Bonato Ci serviranno Le strizzacervelli Se continuiamo Continu a fare È troppo lunga Non so saltare Non so saltare Emanuele Ah sono anche di un bel po' Troppo corto Per questo Ehm Devi aspettare un po' Di più Dopo il secondo salto Ok Il secondo salto Nella seconda Nella seconda Nel secondo pad Qua Sì Sì È vero Un minimo di più Ehm Edo m15 Edo m15 229 Come si fa a scegliere Il lavoramento più costoso Quando premi Dovresti poter selezionare Tra due Dovrebbero esserci dei pallini Orbe esserci L'opzione scendita Oh Sai che mi sa Che ho sentito Ho sentito Tra le mani Che l'avevo Stavolta Stef Hai capito Il punto esatto In cui devi saltare Per arrivare al primo Lo faccio naturale Cioè fammi vedere Non guardo Quando senti il rumore Della trappola Che si triggera In poche parole Sì È l'ultima trappola Che si triggera Ok Più o meno Sì Perché quello A volte mi esce A volte no Quindi non riesco A trovargli un senso E a rifarlo sempre Troppo lunga Niente Adesso troppo corto Grazie Zaccarin Per esserti abbonato Don't Grazie Lorenzo Gaming Per esserti abbonato E grazie anche a Galaxy S7 Pro Per l'aggiornazione Di un euro Per abbonarvi raga C'è sia Il tastino Sia Ho messo adesso In descrizione La cosa per poterlo fare In modo tale Che anche chi è da IOS Lo può fare No Se voi spammo Il link in chat Così lo vedono direttamente Anche Allora Se mi concentro Secondo me ci sono Anche perché ne voglio uscire Perché non lo sopporto più Questo livello Grazie Gianni il killer Per esserti abbonato Dai Quando finisce Sto aspetto Che noia Grazie E freestyle tv Per esserti abbonato Allora Ragazzi Questo in chat E il link Per abbonato Al canale Da IOS Troppo lungo E grazie Gplayers Gutrog E Christian07 Per esserti abbonati E grazie a Tommy Flash Per adanzioni 3,49 No No Non riesco a arrivare al secondo Sono troppo lunga Ma perché ogni tanto Sì anche a me Ogni tanto fa così Grazie Cristiano Rivala Per esserti abbonato Quale è il codice Di questo inferno Scrivi Cheatshorts Detran 2.0 Su Google E trovi Un secondo E grazie mille Poi a SuperAndrea Costa74 Per esserti abbonato E ad Emanuele Paita Per l'attenzione 0,99 Ho letto Ho fatto una serie Di minecraft Quanto È impossibile Allora Sii Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Beavissima Poi mi punto nelle trappole qui Non me ne frega niente Ce l'ho fatta Vazza Va bene Stai sta morendo Che sei imparato A dirmi che so scarsa Va bene Ok Vai Ferre Inizia a provare No No Ti libero la scada No Aspettate Io devo riflettere Mi devo un attimino Grazie Riccardo Tosello Per l'attenzione 0,99 E grazie Darman Special Speed Romolo Red I due pazzi Per esserti abbonato Poi su questa schiena Sì ci sta bene Aiuto che ansia Ero convinta Di non fartela Nat come hai fatto A togliermi 40 In una picconata Ne avrà Tutto due Grazie E compiti per casa 44 Per esserti abbonato Adesso ovviamente Tutti il tipo per step Che deve completare Esplodi Ferre Tutti in chat Il tipo per step E perché qualcuno Non sta mettendo Il supporto a credo Se il video di uno test Anche secondo me È quello il problema Oppure Sono demente E basta E il supporto Per se è finciato Che è più probabile Comunque ragazzi Non so se è vera Questa cosa Di guardare in basso Io non ho guardato in basso Alla fine E adesso è riuscita Quindi Io mi sto per a rendere Comunque il rumore che fa Gonsu Il rumore che fa Stocchio Quando si chiude Madonna Non lo sento Aspetta Anche io Non lo sento Ti giuro Mi prendete in giro Spam my space Fosse così semplice Magari Magari Cavolo No non fa spammare Perché c'è la fatica Quindi dopo un po' Non ti salta È difficile gestire Quello ma Cosa Come L'avete visto Aspetta lo guardo dalla live Anche io Volevo guardare Ah bene Fantastico Cosa mi è bene successo Quante cose stanno dopo L'impulso Sì Ma dove Datemi 10 euro La faccio in mezzo secondo Quella roba Basta che qualcuno Mi fa livello 3 Cavolo Non penso di riuscire a rifarlo Perché mi è capitato Molta fortuna A me sembra di fare Tutto perfetto Quello è il problema Non ho notato Niente Con cui posso dare un consiglio Perché ho semplicemente Saltato Evidentemente un po' Fortuna Ho preso il tempismo giusto E ce l'ho fatta Non è stato niente E grazie a Ciro Ciluzzo Per la danzione 07 Per la danzione 229 Siete i miei youtuber preferiti Grazie mille Poi grazie a Penguin36 Per un franco svizzero E a Ciuplay E a CiuTrog Per la danzione di un euro Io non so I can do This Nat Fai il livello Prendi quell'impulso Che casino di trappole Vabbè Il 3 è il numero perfetto No Cosa Io non so Triggerare le trappole Quindi devo imparare a farlo Tipo a livello 1 Almeno ce l'ho fatta Sono esponato da cosa Perché cosa c'è Grazie Alessandro Saska Per la danzione in Ginevro Mi hanno abbandonato Ma cosa servono Le impulso di preciso Livello dopo Ah ok Grazie Alessandro No l'ho già letto Sto tiltando Bisogna prenderle Per strecarle Se no poi è un casino Ma il video della prigione È uscito oggi ragazzi Giusto Sì È uscita la seconda parte In cui abbiamo completato La prigione Ieri Cioè nel video di ieri Trovate la prima E nella seconda parte Abbiamo completato Tutta la prigione Un video un po' lunghetto Perché comunque Era molto lunga Da finire Però almeno l'abbiamo fatto Tutta Hanno trovato Gli easter egg Penso fossero Abbastanza evidenti Allora Daniele Emiliani 2 euro E step 0 Farete altri video Entrere in webcam Può essere Ogni tanto potrebbe capitare E grazie a Tomiflash Per l'anzioni 229 Che ha scritto Come ci sia buona Trovi il link in descrizione Altrimenti c'è il tasto Ma in che senso Entrere in web E credo il video di step fr Dove c'è anche gonx Ah beh sì Vabbè ragazzi Sì può essere Bisogna trovare giusto Il modo di organizzarci Con i nostri impegni E quelli di gonx E quindi Noi volevamo fare Il gioco di fornite Quello di monopoli In quattro Ma massi non si vuole far vedere Massi si vergogna Quindi Io stavo pensando Io stavo pensando a twister No io stavo pensando A mettergli tipo Una busta in testa Una maschera Non lo so Così nessuno lo vede Cosa? Nel video che ho fatto Dei suoni di fornite Per le armi Come un bacucato ad era Con il mio colbacco E dello scaldacollo Ah aspetta che non l'ho visto Quello fammi vedere Eh più o meno Tipo non fargli vedere la faccia Perché oh Se poi uno vuole Sembra un punta lei Non se ce l'ho fatta Vuole tenere la privacy Alla fine Grazie prox di Kevin Per l'azione di 2 euro Sì ti metti per profetti Grazie mille Kevin E grazie mille a Christian Proprio e stertibonato Raga Mi dispiace Non ce la farò mai Ma te hai preso l'impulso? Sef ti stanno dicendo Dai ma ce l'ha fatta fare Cioè a mo' di insulto Quindi Eh vabbè almeno Insultano a te Ma appunto Ci sono cose che nella vita Steff non può fare Credo Ma scusate Ma se mi passate l'impulso? Avevo io No Non so Che l'avevi fatto Eh aspetta No quella nel muro no Mi passate l'impulso? Eh adesso arrivo Steff dammi un secondo Gamerdrift Grazie per l'anzione di 2 euro Grazie a Chupliers Chutrox Per l'anzione di 2 euro Siete miei tuoi preferiti Grazie a Leonardo Moretti Per l'anzione di 2 euro Sgarrate con l'impulso Sì raga Adesso lo facciamo Perché voglio vedere Quanti altri livelli Sono in grado di fare Non voglio vedere Quanto ci metto a far questo Anche perché tanto Sto continuando chiaramente A farla a caso Quindi Ci riuscirei soltanto a caso Non sarebbe un grande onore C'è qualcosa che mi manca Di questa roba E non capisco Jonzo le prendo l'impulso Non prendere dal pod Prendi solo quelle Che hai già preso Staccate Se no si bugga Non lo sai È un problema No non lo so sinceramente Ah già Non l'avevi finito Tu livello 5 Allora Aspetta Il livello 5 Sì io l'ho finito No Perché Se sembra tutto fluido E perfetto In realtà non funziona E questo è il punto Che non capisco Però allora C'è un modo per triggerare Tutte le trappole Che ci sono su questo cubo Devi mettere lì Il secondo piede Il secondo passo Mentre giri Non lo so proprio fare Ovviamente ci sto provando Per capirlo Così finalmente Riesco anche a triggerare Le trappole Qui Niente Sono troppo lenta Sono troppo lenta A girare Devi continuare Facendo un semicerchio Adesso l'ho sbagliato Io Fantastico Mentre te lo facciamo Per il terzo È arrivato Da era ancora Il terzo Sì Ho fatto i primi due First try E non so fare Questa roba Niente Non so triggerare Le trappole Quello Allora Io un attimino Comunque mi levo I suoni del gioco Perché Sentire solo rumori Di trappole Non è possibile Non so come passarti Le imposte Buttele per terra Dammi Basta che le buttate Per terra Sì ma Non c'è La keep inventory Scherzi Vai gonx Ma tu sei pazzo Vai 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 Fidati di me Aspetta Lanciagli la quale Qua Mi ghiaccia Sì ma Devi prendere le cose Quasi Quante ne hai 10 14 Sei sicura Che non c'è la keep inventory Gonx 100% Allora Gonx Ti ammazzi È il checkpoint giusto? Sì Ti ammazzi Quando io sto arrivando Così quelle trappole Non sono triggerate Mi lascia una trappola Un impulso lì per terra E me la autotiro Quindi iniziate a buttarmi Una sola impulso Per terra E quando io sto arrivando Ti ammazzi Gonx Su come barare Steph è imbattibile Guarda Continuiamo una alla volta Semplicemente era troppo presto Gonx Quindi avevo troppo fretta Vai ora Perché mi serve del tempo Per allontanarmi Fare questo E far così Grazie ragazzi Ce l'ha fatta Un altro impulso Vai Nat Perché se moriamo vicino al checkpoint del livello 5 Si bugga e non possiamo più riprendere l'impulso Quindi devo usare tu te? Sì Ok Andiamo Allora Poi i gonx E poi bastate voi Ok Ma no Io me la faccio questo Che è solo quello volevo non farmi Non mi piaceva Ok Ci farà del tempo Non lo so fare Grazie Alessandro Kamisaka per la danzioni di un ebro E grazie ad Emilio Quintieri per la danzioni 099 E anche a Gamer Drift per la danzioni 099 Grazie Io qui penso sfrutterò il potere del trenino Ve lo dico già Sì Senza pudò Non le so triggerare Mi ci allenerò una volta nella mia vita Ma non Via 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 ho sbagliato Faccio? Ma a voi conviene andare raga Perché qua se no ci blocchiamo troppo E ci rivediamo a livello 5 Ok dai Il problema è bloccarsi a livello 5 Quindi dobbiamo fare in peta Cioè almeno noi che lo sappiamo fare Ok Faccio Velo tricchino all'indietro ok Mamma mia è difficilissimo Sto guardando tutti i movimenti che fa gons Cioè secondo me è impossibile sta roba delle trappole Sembra divertente E' troppo divertente Vai Steph Vado No 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 voglio fare tutto qua L'altro davanti? Quasi Non so infatti quelle lì non le so ancora triggerare io Devo capire come baitare quelle attaccate poi al muro Eh è tutta questione di movimenti piccolini Sì deve aspettare qua Bene se ti metti in mezzo è un casino per me Non so ma io ti devo seguire attaccata Ma te la fanno loro tanto nel caso Però se mi blocchi non ce la farò mai Qua E grazie mille E Gabri Danza per l'anzione di 349 Ciao quindi ciao Gabri Grazie a CiccioGamer89 per certi abbonato Roberto Mazzare per certi abbonato E a MatiG89 per certi abbonato Allora vabbè dai qua Mi dà molto meno fastidio di quello del ghiaccio Sì sì d'accordo Perché non lo sento randomico Ho visto dopo che non avevo preso quelle attaccate Dera mi fate entrare a scritto Ma non voglio andare Muori Non c'è bisogno di morire per forza Può entrare anche Dera come facciamo Sì teoricamente sì Però non so come Io non so come Non so come si invita una persona Essendo già qui dentro Privacy Devi metterla pubblica E Derafaggio in custom no game O in creative game Ma non è che entra altra gente? Qualcuno è la curva E grazie mille JoshDrake YouTube per certi abbonato Perché in parte non lo posso invitare Perché siamo già quattro Giusto? Eh appunto è quello il fatto E grazie a MimoTV per l'anzione 229 Dimmi Non fallo pubblico Perché altrimenti sono altri Eh però posso mettere amici Amici di amici Vabbè pubblico entra e la chiede Che posso mettere solo amici io Niente amici di amici Teoricamente così dovrei risolvere E se vuoi niente gente? No tra gli amici abbiamo solo persone che C'è solo persone fidate capito? Quindi Perché non li posso Ah non lo puoi cambiare dopo che starti Comunque si qua dicono tutti Faccio il trenino Perché il trenino ormai è una mossa che i consulini apprezzano Però Quelle volte che l'hanno vista anche da me poi Finché sento il feeling che una cosa la posso fare Non mi dà problemi provare Gongster Sì Il livello 5 si può bagare se vuoi Sì lo so ma non lo so fare Troppo tempo Da Ragazzi ma si è impegnato oggi Cioè non può Grazie a te mi flash per l'anzione 1099 Fatto vedi? Mi hai visto quando No non c'è perché ovviamente da altri impegni Come non mi hai visto Mi infatti che dovrei girare di un tutto qua Lo so però non ci riesco proprio Vabbè Almeno riesco a beccare il tempismo Fere gioca con controller No giochiamo entrambi Bara che ha scritto Sono tutte scuse Opla No mi sono perso al limite Quasi Grazie Kryonik e Dennis Per esserti abbonato Mi triggera il cervello Non so Il cambio di lato Esatto anche a me Io sono provato a stare Grazie Carmelo Mediatti per esserti abbonato E grazie a Franci05 per esserti abbonato Allora ragiona cervello Quando io arrivo lì A stare in un lato Devo stare tutto da destra E a tirare tutte le trappole E puoi continuare? Proverò Guarda non po' l'allari per vedere Che trigger di cervello No io ho provato a continuare ma niente Potevo far passare Fere Vabbè ma tanto quando finisco io L'ho fatta passare Ma se volete fatelo già passare a Fere È indifferente Allora Ok Allora Resti nel checkpoint Guarda le trappole Cosa vuol dire guarda le trappole? Guarda il livello Ok Guarda le prime trappole che vedi Ok Vai su respawn Al mio credito di premere A Per respawnare Ok Ma perché? Perché dopo un po' è arrivato Nat Sì è arrivato Nat Vabbè basta che fa trenino che Nat Esatto dai Guarda un attimo Ho preso questo checkpoint Guarda che forte Nat Non mi bloccare Ok Lo so è difficile Non so dove stare in Vedi No È difficilissima l'ultima parte Perché io non so dove stare poi Per non bloccarvi Perché non c'è spazio lì Tu devi stare sempre attaccato al muro Ok Sempre attaccato al muro Ok È difficilissimo capirlo Davvero difficile Ma TG 89,2 euro Siete i migliori Siete i miei venuti in Liguria Io sì da piccolo Tipo una decina di anni fa L'ultima volta Sì pure io Qualche anno fa Vieni qua No Perché ovviamente Dovendo aspettare a te Ho fuori di prendere trappole Mi triggera quella Una volta che arrivi all'ultima Adesso ti ho ucciso L'ultima trappola Non è facile Alla penultima Devi correre nell'angolino Vicino al muro della trappola Ok Non le triggeri Quelle dell'ultima Troppo lenta Ci provo Ci provo Quindi vicino al muro Dall'altra parte Grazie Alessandro Kamisoska E poi ad anzioni di un euro Grazie Galaxy S7 Pro per ad anzioni di un euro Grazie E 0,5 Dettagli importanti Quindi qua Non fai così vieni No Perché la triggerata Perché infatti Era appena passato un up Perché la triggerata Comunque Ragazzi non è facile Neanche il trenino In questa Io sto continuando a morire Perché ci sono i vostri trenini dietro Però ovviamente sto imparando Vabbè vai vai Steph Io tanto sto ferma Così non ti blocco Perché ho l'estremo bordino grigio Della trappola Con l'interno E ti triggerà Tutte le trappole Anche quelle in terra Poi devi uscirne velocissimo Sono troppo lento Con quella frontale ancora Per quella frontale Non devi superare I primi Bucchi Delle trappole in terra A me viene da fare Tutto a feeding Vai vai a fare Ok Ok prendi check point Mi suicido Trenino che ha funzionato Quasi Vabbè se volete potete andare avanti Tanto son tranquillo Ok Nat in caso fa con Steph E io spiego No no io son tranquillissimo Guarda Dai Steph Ma che No vabbè ci sta Dai primo o poi già ce la fai Questo percorso qui E' l'ultima dei problemi sta mappa C'è sto pezzo No questo livello Sbagliato fantastico Devi saltare sulle varie pedane Prima a destra Poi a sinistra Poi sopra E poi nell'ultimo Che è un casino Ok Posso o volete andare voi No vai 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 Non lo so fare questo Il problema di questo livello è che ci sono poche impulso Spawnano troppo lente Allora Quasi Ma il senso qual è Riuscire ad andare in tutte le piattaforme lì in alto Sì Devi arrivarci con un impulso alla fine là dentro il buco No non si è necessita a triggerare la bassa Ma è possibile quella roba Questa volta c'ero Dai fai No 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 voglio vedere Fate fate Devo capire Allora impulso qua Ok Vabbè tu vuoi continuare anche di là Però io uso la scorciatoia Vuoi vedere la scorciatoia? Sì grazie certo No va benissimo Ma bene almeno uno ho fattelo di livello Gli ho fatti tutti Ma cosa col trenino? Solo questo ho fatto Gli altri li ho fatti tutti Io da sola E se te hai già cercando la scorciatoia Eh ma se funziona vuol dire Cioè è fattibile E poi guarda Nat comunque non ce l'ha fatta neanche con la scorciatoia Non è per niente semplice C'è Nino No Nino è in camera da letto Perché sta facendo il pazzo L'abbiamo lasciato a dormire Se vuoi ti faccio della strada non male Sì la sta facendo Gonx Quindi penso di averla capita Ok Ok L'ho vista L'ho vista No buono Non è semplicissima neanche la scorciatoia Quindi Allora Mi dà fastidio essermi abbassato così tanto il volume del gioco Però lei troppo l'immagino sia una fastidiota Per la live Allora Gonx o Nat Qui sopra come me la devo tirare all'impulso? Cioè tipo al limite della pedana Al centro Qualche consiglio? Al limite Al limite L'angolino al limite proprio Ok Quindi Eh esatto Ok Adesso No no Vai nel bordo L'altro bordo Questo? O questo? No no Questo è attaccato al muro Ok La tiri sotto E dopo che hai saltato Muovi in avanti Ok No Devi saltare proprio tu Sì sì Ho capito Ho capito Ho capito Ci sono Ah Niente Troppo Troppo in avanti Allora quindi dritto Ok È un casino Ma lo sto facendo Il livello ok Brava Io ho fatti tutti poi da sola Che poi tu il 3 hai barato E io ho fatto il trenino nel 4 Quindi siamo pari Steff Devi sta zitto Non farmi ridere Non posso ridere in questo livello Zitta Sia scherzissima Me li sto facendo Zitta No lo sto zitta Steff Ok Allora Io riprovo Ok Ok Allora Questi non ho problemi a farli Li faccio tranquillamente Questo Cavolo Steff Non stai attaccato al muro Perché le pezzi ti bloccano Tipo qua Ok Al centro La tiri proprio sotto i piedi Devi saltare poco poco prima E puntare in avanti Suicido Tanto Vabbè Adesso impara Eh infatti Preferisco provare A capire questo salto Salta prima Ok Quindi Adesso me le spreco Allora Ma quindi Allora Aspetta Un passo in avanti Tipo la tiro E poi salto Non sto capendo La tiri Fai un passo in avanti Oppure la tiri Salti E poi muovi in avanti Ok Ho sbattuto Ho sbattuto Ok Devo cercare di capire quel salto Che è comunque il più complicato Poi penso che anche Quello di entrare nella porticina No Non si può Ti ho visto passarmi a fianco Sì non è semplice Entrare nella porticina qua Ma stesso è proprio sicuro Che non vuole Ah ce la fa Lo sto guardando Ce la fa Dai Mancano un paio di tentativi E ce la fa Anche perché È un allenamento Per il livello 8 Se schippa questo Non riuscirà mai A muoversi In livello 8 Già No sono andato Troppo lunga Vabbè No peccato Cattivissimi Cattivissimi I pad Che ti portano Dritti nelle trappole No grazie di nuovo Che palle Basta Faccio la strada Non male E grazie Ed M15 Ed M15 Per esserti abbonato Immagino sia quello Da 5 euro Perché Ti eri già abbonato No vai Andate Andate Allora Ah Mi hai fatto questo Ah mi sono dimenticato Stavo già pensando alla curva Cosa? Adesso ce la faccio difficile Eh boh Ormai non chiedi tanto Questo si chiama Supporting Creators 317 2 franchi svizzeri Che poi non mi ricordo Se era Il consolino Che aveva cambiato Troppe volte L'uomo Non poteva più cambiare No perché Non mi hai triggerato Quella Grazie Antonio E riusciti Per esserti abbonato Scusa Sto iniziando a saltare Anche I salti più banali Troppo di fretta Perché so che Se no poi muoio dopo Bravo Meglio di così Non lo potevi fare Congratulation Perché non riesco Perché non riesco Per fare Anche il primo salto La devi lanciare Al bordo Del pad Sì È che ogni tanto Non lo so Perdo il tempino Io mi pensavo Che a livello 4 Steffa lo faceva Prima di tutti Quale? Quello delle trappole? No a dire la verità Io sono allenato Nei salti Infatti i primi due Li ho fatti instant Perché le mappe Che facciamo noi Hanno più salti Di parkour Che trappole per ora Ah vabbè E grazie Giovanna Verde Per esserti abbonato Più che altro È stato strano La 3 Perché di cose della 3 Ne avevo provato altre Invece questo è uno specifico Ho letto un commento bellissimo In chat Steph Ma dietro di te C'è scritto Supporta creator Prima o poi lo farò Ci facciamo fare il quadro Un cartellone Enorme Allora Lo sapevo fare Smettila di notare No perché non me la triggerata Come è possibile Che nervoso No meglio è successo Più di una volta Supporta creator Smettila di 17 5 franchi di zeri Un giorno puoi fare Che giochi con gli abbonati Da 5 euro E si si può organizzare Sì ci stavamo pensando Dobbiamo finire Di organizzare l'iscord In cui appunto Vediamo le stanze private Da lì Penso che organizzeremo Qualche Qualche volta In cui giochiamo con voi E poi magari anche Altre volte In cui giochiamo Anche con Con tutti gli altri Vediamo Dobbiamo ancora organizzare tutto Concentrati Ok Questo è un bel salto Ok Ok Allora Aiuto Perché sbaglio Li stavo facendo Perché sbaglio Non Lascia l'impulso che ho lasciato là sopra No Prima poi ce la faccio Poi sbaglio Poi ce la faccio Elettra marronge 2 euro Guardate su in sa Cosa ho fatto a costruire per voi Non so se è la cosa Che mi ha fatto vedere Prima Lo so vediamo Questo è perché non salti Lo so Sono imbecile Questa volta c'ero Questo era un ottimo tentativo E raga dopo stavo pensando Di provare a finire la mappa Avalanche Ve la ricordate L'abbiamo già fatta Perché secondo me Si può finire E quindi stavo pensando Di provare a finirla in live Che può far ridere Sì vabbè Steph Buonanotte Guarda a fare E grazie Alessandro Barbella Per essere ti abbonato Stanci in terra E salti Sì lo so Però ogni tanto Mi intrippo E non mi esce più Comunque Steph Se ci taggano in qualcosa È meglio Cioè se ci devono far vedere qualcosa È meglio Se mi parli Mentre sono dentro il livello Mi ammazzi Quindi Aspetti che finisco E poi mi parli Tommy Flash 229 Con le codice di questa mappa E ti conviene cercare Dead Run Scissors 2.0 Su Google E la trovi Se lo trovi Lo storm un po' in chat Sì Io l'avevo fatto anche prima E per quello Infatti ho smesso di farlo Perché l'ho già fatto E me lo chiedono all'infinito E beh giustamente Magari qualcuno è entrato ora Non lo sa Magari non se l'è salvato Allora No ci riesco Ah Aspetta c'è arrivato Ce l'hai fatta Sì Non l'avete capito No Ti ho mollato un impulso Anche qua sotto poi Ok In caso te ne serva un in più Ok E cerco di falla Ma è normale che qua non ci sono impulso raga Sì Spallano da un po' Non le so più fare Sì È molto lento il responso Ah Comodo Quasi l'ho fatto Ah Devo riscendere Ciao Ciao Vuoi andare prima dove? Sto provando a riprendere l'impulso Sinceramente Non so fare quella roba Non risponano vabbè Quale roba? Il salto per ricale? Sì Tralanci sotto Salti e poi premi Non riesco a fare quello neanch'io E poi premi? Dov per andare avanti Ah cioè quindi con una sola impulsione Impulso? Sì Ok Non la vedo più neanch'io No ho sbagliato Ah perché l'ha messo così lento raga? Io non riesco più a prendere le ragazze Ha detto che ne avrebbe messo di più Ma non so se l'ha fatto Eh no palesemente Le vedi tu? Magari un'altra mappa No fai Io sì le vedo Qualcuno la prese Tieni sta Tieni No più al bordo Ok Dera si è abbonato Grazie Simone Neve per certi abbonato Si è abbonato Dera Ok Allora Ok Non ho preso malissimo il tempismo Basta Non ce la faccio più Devi saltare quando sei sopra l'impulso Grazie E Daniela Cristofori per Danzone 099 Mi fanno venire nervoso l'impulso Cioè come tutte le mappe di parkour Qualsiasi cosa mi fa venire nervoso Vuoi voler Dugon se non l'hai mai fatto? Cosa? Adesso No no andate Io lo voglio far finire loro Una volta che arrivano su mi muovo E adesso devo usarne due? Basta una No no una 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 Al limite proprio limite 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 Io lo metto al centro Bravissimo Tipo AQ1 2 euro Nel canale potete fare il gioco dell'eredità via d'oro Non conosco Sarà il gioco della trasmissione tv Stai che li fanno sempre Però non lo conosco il gioco sinceramente Quindi non so se è fatto bene Se è carino Una te la lancia al limite Sì E grazie Nextdoor Viaggio per certi abbonato E grazie anche a Gaghi Bastone per certi sempre abbonato Dai Che noia sta roba Allora io vi aspetto sopra perché poi vi devo far vedere come funziona Sì ma qui c'è Esatto Siccome è irritante conviene Se avete finito magari che aspettate sopra Perché se no qua a prendere l'impulso tutti ci mettiamo 40 ore Infatti ho fatto una cavolata di Shandria Idem Vabbè io sto svolta già Ok Ok Adesso questo non so fare È particolarmente facile rispetto ad altri livelli È soltanto Un passo in avanti Ok Ok Uno ho deciso Mi manda all'indietro Quindi non riesco Non riesco a prendere il tempismo Per fare un salto in alto Mi viene da farlo in lungo Guarda Magari non mi esce Capito Esatto Così Esatto Quindi allora Metti sul piede e poi salti Ma vai un po' avanti Dopo Dopo Se vieni avanti all'inizio Ti manda di così invece che in alto Esatto però Tiri sui piedi Salti Dopo che sei in aria vai in avanti Il problema è che io quando me la tiro nei piedi Vengo sbalzata all'indietro Quindi è che se poi vado un po' in avanti Non riesco a riandare avanti Sono troppo indietro Perché allora vuol dire che te si mettono dietro E non perfettamente verticale Vabbè ok Ok No Piano piano Ma la riprovo Io sono Tomico Ye Grazie per il certe manatto Ti devo fare una cosa appena vivi là Ok fermo Vai un pochettino più dietro Ok Tirolo là Non tirolo al centro Ok Ok si Capito Al limite adesso Troppo poco Ma dai Sì al limite l'ho detto Era al limite Non è vero Elena e Tomero due euro da noi nevica Beat Da noi no E grazie a Gaghi Bastone per l'attenzione di Un euro Io supero la prima pedana Vado ancora più lunga Non mi piace alla fine molto sta skin Potevamo farla più carina Sì Sì Sono d'accordo Infatti per quello non l'ho presa Poi via l'angolino Via l'angolino Qua? In questo? Sì Ok Ok Vedi? Aspetta non c'è il checkpoint Lo so E adesso è la parte difficile Vuoi vedermi? Per questo serve l'ultimo impulso Vuoi vedermi Steph? Sì Levati Ok non cadere E sta difficile ma anche io lo so fare Ma aspetta ma mi sbalzi Cioè mi ammazzi? No 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 Ok Tu basta che guardi Appena uso questa qua Vacci sopra Sì Però non scendere Ok No quasi Hai capito come si fa? Che casino Vabbè Ma neanche per sbaglio Ok Grazie a te Mi flash Badanzei 229 Ho fame Anche io ho fame Quasi Dimmi Devi iniziare Quasi Devi iniziare a mirare Ok Già mentre stai scendendo E devi mirare dove c'è lo spazio tra le trappole Ok Sì quello l'avevo intuito Ho sbagliato solo il tempismo Come prima tentativa Però dai Non mi preoccupa troppo La nuova rottura di scatole è questa roba Cioè è proprio una rottura di scatole gigante Perché Guarda Vado io a fare? Sì sì vai 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 Ho sbagliato Perfesco non intripparci No il problema è che Mi è venuta la depressione Sapendo che dopo non c'è un checkpoint Che devi fare Sì pesante Angolino mi raccomando Allora io mi inizio a vedere come si deve fare questo salto Ma è però Quasi Non è giusto Ero troppo messo bene Talmente in alto che ho sbattuto Silver player Grazie per esserti abbonato Stef Sai dove sbagli? Mhm Inizia a mirare già da subito Sì vabbè Lo faccio per comodità No Fere E mi spalza Almeno un passo in avanti Fere devi fare un passo in avanti e saltare in contemporanea Perché deve risultare perfettamente sotto i piedi Sì più indietro di così non la posso tirare Quindi è perfettamente sotto i piedi Guarda scusa Eh più di così non la posso andare Capito Ma tu mi hai detto che devo saltare e poi andare avanti È un passo subito dopo che la tiri In contemporanea E poi vieni avanti È vabbè un po' diverso È tutta una roba Grazie Grazie Mattino Gollino Per i 2 euro E si può precisare lo spawn dell'impulso nel 5 E come? Non credo Forse prima di startare? Forse modificandolo prima di startare Eh ma prima di startare non ci puoi arrivare Infatti Infatti Non lo so No Fere anche mentre guardi ricordi di lutarle fino a subito l'impulso Così rinizia a partire lo spawn Sì 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 Comunque io nato lì l'impulso nell'ultimo Nel buco non la lancio all'ultimo Grazie Gaghi bastone per attenzione di un euro Lancio poco dopo il centro Vabbè ci provo a farlo perché però poi spanno sotto capito? Ci provo? Boh sì Dai sì 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 Vai Io l'ho presa Io l'ho presa Vado io Sì 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 Tanto devo aspettarla Sono sprecate le mie Vagliato Guarda No No io dopo un po' più non riesco più a fare le cose perché mi viene nervoso Ovviamente c'è il senso di step up che ti fa venire nervoso Certo Ci siamo incastrati qua Ma dai Nooo Che noia Ha sbattuto la testa Grazie Claude96 per esserti abbonato No Ma che poi respawnano quando uno muore No Ma a me è sembrato così No perché quando Nat era lì Guarda guarda poi quando muore Ha tipo 30 secondi di respawn la trappola Anche secondo me fare Ok Venite dove è stato io Stef Ah ok Vedi che non è morto Ce l'abbiamo Sì Era strana la coincidenza E capitava sempre quando qualcuno muore Ah quindi voi vi potete vedere tramite la freccia Non vedo nessuno Oh Sì Niente Sì 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 fatto Sì fatto Diventiamo meno E ci vuole meno tempo È un peso È un peso sta mappa Martino Goglino Due euro Scusa l'ho fatto Un mio amico non so come si faccia Non so di cosa si tratta Ah ok Deve modificare Ok ok Nessun problema È il tipo che ha fatto la mappa Che qua ha fatto un errore Vabbè il livello 6 è difficilissimo Perché il tipo voleva evitare Che la gente avesse la voglia Di aspettare di avere più impulso Perché se notate Sono giuste Come numero Però poi D'altra parte È una rotta di scatole Sì però vabbè c'è da dire Che tanti le provano insieme agli amici Anche tanti youtuber Le fanno in tanti ste mappe Quindi devi pensare anche a quello Nel momento in cui la fanno Un sacco di youtuber Capito Quindi Nat partiva Mi ha detto da qua Vediamo la live Grazie che i versi 89 Per sentiamo nato Da provare Avalanche È anche peggio Sei sicura No per niente Poi è tutto così giusto No quasi ho fatto il livello 6 Vedi che non dà così tanto di Ma perché Che noia Queste casualità qua Sono proprio irritanti Raga ve lo giuro È davvero irritante Avere quello spazietto Di casualità Poi farà sempre odiato Quindi è davvero No vabbè però per diversi video Che avevamo fatto Tipo quelli di salto in lungo Mi sono mezzo abito a causarli Però Cioè Capito Sbaglio un minimo No Non hai possibilità di riprenderti Di recuperare Niente niente È tutto giustissimo Cioè anche il salto Lo fai leggermente meno alto E no non ti va Ah È arrivato su Sì Ok Cioè è difficilissimo Calcolare sto tempismo Anche perché Dovresti provarlo Tante volte Ma non essendo Che un checkpoint Devi rifarti sempre questo Esattamente Steph Dimmi Devi mirare proprio Al centro di quel blocco Ok E lativi Al centro del blocco Prima della trappola Quindi nella Nella metà rampa Di discesa Oppure Ci sono già due blow E non lo so a memoria Niente Niente Non riesco a saltare in alto Scusa Ogni volta che la faccio Guarda il mio schermo Però io L'ho guardato Steph Non riesco a farlo lo stesso Non riesco a capire Non riesco a capire più Quello schermo No 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 Ho imparato solo a saltare in lungo Questa roba Basta 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 Dai Cosa è successo? Non lo so Cos'è stato? Ah la cosa di gongs? Sì Ah ok Ci hanno fatto muori tutti Io credo che con altri tre tentativi Ce la faccio Il problema è che tre tentativi Con questa Roba qua che è lenta Sono tipo tre mesi Ogni tanto non salto Salto di meno Salto di più Non capisco perché Ma almeno ho capito Quando sbattevo Perché sbattevo Amo il piccone di ferie Ci credo Quello è un signor piccone C'è anche Steph Quindi non fare ci credo C'è anche tu uguale Maledetto Ci stiamo ammazzando No non ti voglio uccidere io Io sì No Bigliacca Tu sei stato un bigliacca Mi hai lasciato a 20 HP Lo so Allora tanto la vita non mi serve Il suo livello Tanto se muoio Muoio Ho aspettato troppo Non prendere più l'impulso Fammi finire Così puoi provare costantemente No no Non provo più Me ne vado No non dire così Grazie Stefi4523 3 per l'attenzione di 2 euro Basta Sono stanca mentalmente Di fare sta mappa Penso a Gons Che ci ha messo 5 giorni Per fare il livello 8 Sì E non ho superato il 9 Quindi devo ripartire dall'8 Che no Vabbè non è facile Dai Una volta capito Gons Facile E no Non è proprio facile Perché certe cose Anche se le capisci Sì magari le fai più velocemente Ma comunque hanno sempre Quel tanto di casualità No allora Questo livello E quello del ghiaccio Hanno un fattore di casualità Esatto Quello del beitare le trappole No Quello va per skill Quello è meccanica Esatto È meccanica che devi consolidare Però questi intendono Proprio quel fattore di casualità Che ti fanno sbagliare Anche se magari l'hai fatto 100 volte Tipo questa cosa Questo livello Dove muore fisso Gons È casualità Andato Anche questo è difficilissimo Dobbiamo prendere Il tempino Rip Nat Nat penso Claudio Gamer 07 Grazie per il certe abbonato Grazie a Fortnite Pro Per il certe abbonato Grazie a Steffi 4523 Per l'anzione di 2 euro Questo è il posto per Dara Vabbè sì tanto Alla prossima Lo facciamo comunque entrare Beh sì Basta Farlo prima Esatto Esatto Allora Sto sbagliando come Non so che cosa Raga Ah mi sentite È ricrasciato Connecione Sì è ricrasciato Ora pure ci sei Devo tirare leggermente prima Due volte di fila Che ci vado vicino Stanno tutti cercando Dara Dara ti prego Entra Dara Dara Raga a quanto pare Dopo che si starta la mappa Non si può fare entrare Sì abbiamo startato la mappa E sembra che non si possa entrare Dopo che si è startata Quindi alla prossima Che facciamo Sì lo facciamo in tre Per ristartare in questo momento No 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 Grazie Pietro Montitillo Montitillo Per il settimo nato Grazie a Nexus 06 Per la danzione 229 Un giorno potremmo fare un PvP In parco giochi please In parco giochi Credo sarebbe impossibile Perché vorrebbe dire S'è solo 4 In creative sì Però in creative sì In creative Grazie a Ciro Ciruzzo Per la danzione 07 Per la danzione 229 E Gaghi Bastone Saluta Paola Non so chi sia Vabbè ciao Paola Ah in quel senso era Eh pensi sì Saluta Paola Ciao Paola Quindi grazie Cosa rispondi Non so chi sia E perché magari dovevo Salutare qualcuno Che era Paola Perché ti confondevano Dotto che tu sei Federica Valentina No io sono solo Federica Perché il mio nick Anziché essere Fere Che è scritto anche In tutti i canali In tutte le cose È Fede E quindi sono Federica Capito Sì ma sai quante volte Me l'hanno chiesto Saluta Fede Sì no non ce la fanno Non ce la fanno Anche perché L'ho abbreviato Da Fere Niki Io ormai scrivo ovunque Fere Perché è molto più semplice E neanche così Lo azzeccano E neanche così Perché posso capire Fere Niki Che magari sbagliano A lettera Ma Fere È insopportabile Questo livello Voglio uccidermi Voglio uccidermi Staff addio Addio Adio Questi sono gli ultimi I miei momenti Non mi stai guardando Non ti guardo neanche Fere Ti do le spalle Non va di nulla Vedete dove sto io Non ho saltato È continuato a tirci De impulso Io ho perso Un'esperanza Di riuscire a fare Questo livello Anzi sono soddisfatta Che la maggior parte A parte il 4 Li ho fatti da sola È comunque Un ottimo miglioramento Rispetto alle mie Skill Quindi Sono molto soddisfatta E mi va bene così Per oggi No io vi sto aspettando Guardami E non ti posso guardare Sì Nat Stai evocando un demone Staff Tante cose sto evocando Grazie Filippo Per l'anzione in 5 euro Rega mi lasciate Continuare Che spero di finire Sì infatti Io ti sto lasciando fare Staff Sto rimanendo qui In un angolo È amen Siccome sto quasi Avendo problemi Solo sull'ultimo Perché questo All'incirca L'ho capito All'incirca Diokovic Nadal Nadal Però ho già vinto Diokovic Diokovic No non lo so Perché per un periodo Ti hai fatto tantissimo Diokovic Poi un po' è calato Non lo so Dai Diokovic Per affetto Non lo so No mi sto sconcentrando Griffone Griffone Grazie per esserti abbonato Ma perché vai sulla destra Staff Quando L'ultimo salto Sì Perché Per togliere la casualità Sto bilanciando Di velocità Per Riuscire ad entrarci sempre E quindi vado sulla destra In modo tale da Se sono troppo in alto Entrare lateralmente E non dritto per dritto Però Ho perso tutto La mia vita Ma ha più senso Con A e di Eh esatto Sto mirando con quelli Cavolo Questa volta È potentissimo Volevo prenderti L'impulso Per Cosa Per fare cosa Per dartene di più Così non devi ogni volta Capito Provi a rifarla Più volte Non ci arrivi giusto Giusto Non conviene staccarle Perché rischia di bugarsi Comunque Dara chiede se può Entrare su TS Sì sì Certo certo Uh Sono troppo lungo Così io Non capisco perché Non capisco perché Ciao ragazzi Ciao Dara La mia vita fa schifo Comunque Staff Io ti consiglio di fare La scorciatoia È molto È molto più semplice È molto molto più semplice Rispetto a fare Diecimila salti Perché Ti sbagliarà La fine Ma ti conviene Tanto comunque L'hai Completato Usati la scorciatoia E provi direttamente Il resto Ha senso Ditemela In pratica Davanti al muro Ok Te la tiri sotto Salti Ah come ho fatto La riuscivi Appena visto Gons Mentre che la stai ritirando Premi leggermente S Per allontanarti dal muro Perché se uno sbatti E non riesce ad entrare Ok 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 come è successo a Gons In questo momento Sto vedendo io la live Comunque Proprio leggermente La devi premere S Perché se uno parti Troppo indietro Allora Se lo fai adesso È meglio perché Almeno ti alleni Per il livello 13 Quello Lo so Che c'era un livello Fatto così E se qua bestemi Non sei dopo Abbiamo capito Che il punto debole Di Gons Sono Gli impulse Eh non più di tanto Questo è di quello Che mi riesco Proprio più a fare Pensa che nella sua live L'aveva fatto In 15 minuti No Gons Hai detto Sì sino all'otto Sono arrivato in 15 minuti Ah e se vuoi fare Come Come fai tu Steph Nella parte Normale Insomma Come sto vedendo adesso Allora Tu parti dalla parte sinistra No Nell'ultimo salto Di questa zona Ok Tu salti Tu ti metti Nell'angolo Quello che ti ha detto Nato è sbagliato Se ti metti Nell'angolo Non vedi Tutta l'entrata Quindi devi entrare tipo Preciso preciso Se tu ti metti a destra Tanto l'imposto Ti dà molta spinta Se tu ti metti Leggermente più a destra Io non l'ho detto Di mettersi all'angolo Sì Oh mio dio Sì è vero Oh mio dio Oh mio dio Cavolo Cioè Sto sbagliato Il consiglio in atto Era la cosa peggiore Mai creata nel mondo Senti io l'ho fatto così Magari a lui è uscito In quel modo Ma c'è proprio Non c'è fare cosa Magari comunque È tutto fatto bene Lui gli esce ogni volta E vabbè dai Ora non devi blameare Nato Scusa Anche perché io l'ho visto Se l'ha fatto tranquillamente 20 volte lui Quindi vuol dire che Per lui quel metodo funziona Grande fai che mi difende No vabbè ci sta dai Alla fine non c'è il modo Sto per morire Sto per morire Sto per morire Sto per morire Cosa è successo? Mi ho saltato tre volte Nella Nell'impulso Stile il bug di prima mia Che mi ha bloccato Esatto Allora Dov'è che stavi giocando Intorno a indietro Stef? E beh Tanto Mentre aspetto Gaghi Bastone Grazie per i due euro Siete i miei preferiti Grazie mille Sempre troppo tardi Grazie Filippo Tovo per i 5 euro Sempre troppo tardi Leggermente prima Tirala più avanti Tirala proprio dritto Verso di te Guarda dritto per dritto Non capisco perché Quando mora i gongsi Mi arriva sempre un impulso addosso Il cammino Ho capito perché Credo che c'è la tira lì addosso Sì no no La tira lì addosso Ah ecco perché Fixer mi ha fatto capire Che questa cosa è divertente Tanto devi aspettare ancora l'impulso No Stef Ecco Pure te Però mi ha fatto Adesso ferma qui Per lasciare tutte le impulso a te E mi tiri Vuole le impulso Eh scusami Perché ero nervoso Eh sì Così voglio vedere Se almeno ce la fai Tutto di fila Non ci mancava che sbagliassi questo Yes Sì in mezzo Fai Sì Finalmente Sì 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 Non lo so Non l'avete visto Però c'è Nat Tu eri in mezzo Ma in mezzo rischiavi Tipo di non farlo andare avanti Cioè ti rendi conto Ah questa roba l'avevo vista Cavolo Oh adesso non riesco a superarlo io Ah Sperai vuoi riprovare tu Non lo so Dai vai Ho perso tutte le speranze Dov'è Favij Eh sta registrando un po' di video Io voglio provare Rilanciarlo subito dopo che salti Eh F posso spiegarti Sei Sì mi faresti un favore Allora consigli Ti appiccichi al muro Ok E poi rimani Tipicilissimo Ormai ho perso tutte le impure Fermi tutti Allora Vai Salti nel primo paddino Ok E clicchi in W e A Ok Fino a quando stai per arrivare al secondo Quando stai per arrivare al secondo Premi S e A Semplicemente devi cambiare W e S E non guardo da nessuna parte? Non guardi da nessuna parte Guardi dritto Guardi dritto per dritto Ciao aspetta fammi vedere Dove salti per il primo paddino Vai Vai Fai sempre così Vediamo se riesci subito a farlo No No Io non ho neanche capito Aspetta Volevo vedere Nat No non devi girarti No non devi girarti Ti sei girato Devi Proprio dritto per dritto Non devi guardare le altre basso Esatto Devi guardare Hai presente Vai dritto per il primo salto Ok E tengo sempre quella visuale Sì Tieni sempre quella visuale Allora vediamo Nat No non guardarmi che Non lo so fare nemmeno io Ah ma proprio neanche per sbaglio Cioè sì Sono arrivato tipo Cinque o sei volte alla fine però Che farà? Vai Ah ok Credo di aver capito Quello che metto da era prima Piano piano il cervello realizza Ok Possiamo io Mi sono iniziato Steph Tenne la trappola che ti spinge Sì Meglio Iniziativa vero? La seconda dal muro dall'inizio Esatto Allora mai lo conosco a memori Ci sono morto tutta volta Ah ok ok Ho visto che stavi per andare nel terzo Sì Tu non hai capito Devi mollare poco poco prima la W E iniziare subito con la S Dopo che tocchi istantaneamente Ho preso la freccia Però tanto poi così non mi bastano l'impulso Quindi è inutile che ci riprovi Io sto provando la forciatoia Che è difficilissima Difficile quanto completare Il livello Però voglio provarla Fatto Tutto a Nat Non posso Adesso non so cosa c'è C'è una tappola No nel mio cervello non ha senso questa cosa Oh mio dio C'è una parte con l'impulso Ti aspetto qua Buona fortuna Dai l'ho fatto io Difficilissimo Tu quando arrivi al secondo Stai finiti già Cioè continui a premere W Non lo so Nat Per ora è tilt Capito Ci arrivo piano piano A capire Guarda sempre dritto Mi raccomando Devi girare la visura E solo per Cioè mi sembra di essere troppo in basso Sì ti sembra di essere in basso Però non sei in basso Stai tranquillo Perché sto sbagliando adesso Perché Giacchi Di arrivare dietro Vinto al quarto E non al terzo Stai Ti sei perso il terzo Ah è quello che sto sbagliando Sì Ah Ok No più a sinistra devi andare Ok Ok Allora sto sbagliando Il tasto da premere Sì Quando arrivi al secondo Svento di premere W Stai E Gio ha la visuale dritto Che guardi sempre No sbagliato Rimbalzato sul muro Vabbè cervello Rip Gongson non riesce A raggiungervi No stavo cercando Di entrare nelle cose gialle Cavolo sarei voluto entrare Anche io Ah fra poco Andiamo in avalanche Tanto Mi hai crashato la live? Boh No No Forse è crashato a te Non mi gaga più l'immagine Skin preferita 229 grazie Dario Carla Ehm Qua si staccano Forse è quella da ladra Al momento E grazie Giusei Busterna Per esserti abbonata Eh vabbè Non capisco come funzionano Questi bouncer No ti stai lanciando Troppo presto Steph Ho capito Cosa stai sbagliando Troppo presto Dove non è molto più lungo Guarda Ora quando salto io Aspetta Che noia Ok vai Visto che arrivo io Perfettamente nell'angolo Ma che cavolo Vuoi provare tu? Sì un attimo L'ho sfiorato adesso? Spero Questo livello è brutto Non mi stimola Sì l'avevi sfiorato L'avevi sfiorato Era giusto Steph tutto sta sul smettere di premere W quando Stai andando sul secondo Eh ma poi mi confondo Su cosa premere da oppo Secondo me pure Non lo sai È irritante Quasi Quasi E se lo aspetterà L'impulso Sì tu vemi sempre W Ma che noia Folli anche quello Io mi sa che voglio andare in avalanche Perché non la sopporto più sta roba Io sono d'accordo Oh mio dio Quella che abbiamo fatto anche nel canale Dei veicoli che cadono Per la prima volta l'avevo fatta Ma non so quando Perché stavo pensando ad arrivare Vabbè Non sopravvivo il nome Allora Vediamo la chat Questo avalanche Ho già arrivato Ah Quindi avalanche Stavano scrivendo tutti avalanche Tutti sì Che bello Finalmente avalanche Allora Quindi adesso gli devo mettere la privacy Su Non posso ancora Forse perché non avete arrivato tutti Quella mappa Quindi No raga Quella mappa è divertentissima Sì no Lo stavano tutti dicendo Oh che bello Avalanche Sì sì Quindi Meglio Raga avete arrivato tutti Io sì Io mi sa di no No ma non dovevate fare lì Dovevate fare back to creative E io l'ho fatto No Ma metto ready e rientro eh Io non posso Proviamo a fare il messo e cambiare pubblico No io ho messo ready e sto rientrando però Stai facendo? Eh mi sa di sì Sì Ferro è da me è rientrata Sì ferro è di nuovo qua No raga non mi fa premere Guarda dove non li va Che noia Ma per far entrare me? Sì No Vabbè tanto No ma Cioè ragazzi io ho tutte le amicizie Se mettete Amici di amici Si blocca subito Ma perché può bloccarlo? Sì E poi posso mettere Che non è Solo gli amici può mettere Quindi entrano al massimo solo gli amici E poi nel caso si blocca subito Allora Siamo qua Metto ready XX al BXX top Due euro C'è massi? No E sta facendo roba Studiando Vabbè Strà facendo gli affari sui Che ne sai che stai Beh quando non c'è Sta studiando Io non vedo neanche i redi Sì sì Però stiamo entrando Il video quello là Che avete fatto sul canale Non me lo so Visto tutto Quindi non so com'è Follia Vabbè E sono uscito Dopo neanche 5 minuti Follia Ma si mi ha detto Che l'ha provata Fuori dal Perché non c'era In recco con noi Quel giorno L'ha provata E mi ha detto Che è riuscito A arrivare come me Al checkpoint Ma poi non riusciva Più a far nulla È molto difficile Ma è facile? No No Boh è particolare Cioè non è simile a niente Che abbiamo già giocato Quindi adesso lo vedi Come riusciamo a entrare Se riusciamo a entrare Perché questo caricamento È infinito Già Totalmente Ok Allora quindi Prova ad entrare Dara Grazie fr1 As e Bertagliola Per esserti abbonato As 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 Ok io purtroppo Ragazzi il computer È quello che è Ci metto un pochino Tanto anche il nostro Ci mette una vita Quindi Non sento la moda Penso sia più forno Che il computer No ma il mio è da buttare Questo ballo È quello che si sblocca A livello 90 È qualcosa? No l'ho comprato No Ah uffa 90 è qualcosa O è questo Questo O è questo Uno dei due Aspetta Mi sa che è questo Uno dei due raga Questo l'ho comprato Io lì ho fatto Sempre Non me lo ricordavo Ho visto che Non mi piace il ballo Però è bella la musica Io mi sono ritrovato Infinite Dab Nell'inventario E non so neanche Quando l'ho comprato 5 secondi No che bella Davide grazie per certi abbonato Allora Sono Ci sto mettendo 3 ore Per caricare Battaglia reale Il cattolino Dai ti aspettiamo Non è un problema Vogliono sempre la floss Allora Eccomi Buongiorno Ce l'ho da qualche parte Vediamo Che poi Non mi è mai piaciuto Come ballo No a me già piace No a me già piace Il server Vi giuro che l'ho perso Che cosa fai Eccolo È orribile Che cosa È bellissimo No non c'è Tu non so C'è il tuo server Sì Che strano E se fai da me Non puoi genare Cioè se fai da stesso Su di me O cosa del genere Aspetta Ma come ti invita Niente Non glielo manda No non puoi invitare Perché il gruppo era 4 Aspetta Mi ricorda troppo Posso entrare Posso entrare Lo devi togliere subito Ok Mi ricorda troppo Fortnite vecchio Questo ballo Sì Martigio 89 5 euro Ok Privacy Ah no ovviamente no Posso cambiare Stesso concetto Vabbè Secondo me Essendo a Frienzio Posso entrare Solo i miei amici Secondo me Qual è la miglior season Per me è la 4 La miglior season Forse è stata la 3 Io sto pensando Perché Anche la 2 non era male No no la 3 No forse è la 3 La 3 La 3 senza ombra Di dubbio La 3 è quella Dove L'ultima è la John Wick No? Sì Dove c'era il razzo Come vento Eccetera Eccetera Sì Sì Anche secondo me All'altra Raga andiamo Ci mette un po' a caricare Non spaventatevi Ma io non sono Ma io non so come è entrata Io ero entrata Perché mi ha fatto uscire Perché a me Mi ha fatto uscire Eccomi Ciao Ciao Io neanche la vedo Mi fa startare Sì Impazziremo Io seguo Steph Grazie a Nox Mattini Per esserti abbonato E grazie a Leonardo Berolo Per esserti abbonato Natte Preventemente il concetto è questo Ti fermi leggermente Prima del ghiaccio Parti a correre E devi saltare Poco prima che il ghiaccio finisca Esatto Quindi per il ghiaccio Tipo ta E ta Nel mentre che schivi Però capito Mi ha già preso in piena roba E tipo vai qui E salti E devi schivare lo stesso I veicoli Nel frontempo Ma non capisco cosa è cambiato Il personaggio non sta saltando bene Anche a me non sta saltando bene Però Me la sto cavando No Adesso è andato liscio Aiuto Ma non smetto di evitarmi Tutti i veicoli Possibili Immaginabili Eh vabbè Allora Io ne ho preso 5 Vai grande Steph Grazie su Portagretto Stavimenti di 17 Per un franco svizzero Grazie a Leonardo Perolo Per il certe abanatto Grazie a Guerrero 17 Per l'attenzione di un euro Thank you Eeeh Aiuto Perché il mio PG Non sta correndo Perché non salta No ma perché non salta No Dovete prendere bene il tempismo Steph Io non sto avendo troppi problemi Cioè da quando l'ho capito C'è qualcosa di diverso Da prima No Da quando l'ho capito Io la scorsa volta Non sto avendo più problemi Devi correre il più possibile E poi salti Eh non salta più No Ma dove vado Sì dai Ma ragazzi A volte non mi prendono Però tipo Sì perché ti colpisce lateralmente Sì esatto Anche a me È un casino Lo fa anche a me Oh ma non sto cadendo Perché Eh no 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 Non sta andando bene Questo pezzo è odioso Fermati fermati No Fermati Non si ferma più No smettila No 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 C'è altro ghiaccio Sono caduto fino alla fine Niente Non si fermava No dai ma non mi ha preso Ciao Nat Ciao Dove erano matigia 89 Oggi e domenica siamo tutti in ferie Tranne noi Dai No 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 vabbè noi generalmente Essendo che non abbiamo un capo Non abbiamo ferie Quindi facciamo quello che vogliamo Tutti i giorni Semplicemente Cos'è che Perché sono morto Ma è tutto un bagaglio Credo Questa me è letteralmente Surato Tu voglio entrare in una macchina In un movimento Eh quella è la cosa migliore Se ci riesci Ma dai ma non c'era lì Però in effetti Ma che cavolo Sì ma quanto lag Entra Entra Nat Nat Pochino Chi l'ha preso? Io Ciao Dera Ciao Dera Allora devi andare tutto dritto Il problema è che Poi ci sono i pad Il problema è che poi ci sono i pad Quindi praticamente ci sono Delle entrate con delle porte Tu devi scendere dal veicolo Perfettamente quando c'è Quella entrata E saltare perché c'è anche lì il ghiaccio Esatto Non ho capito nulla Dai No fermati 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 Può andare tanto anche se ci prendono i vicoli Non ci dà problemi Non riesco a fermarmi Però vedi le porte Alla destra del turbo Vedi com'è Tu dovresti scendere al volo E prendere E saltare dentro la porta Ah ok Che è difficilissimo Mi ha colpito? Ma perché è meno colpito? Sì però vedi che non ci svolta via Manca mai ha colpito qualcosa che non ho visto arrivare Adesso questa mia colpita l'ho vista Ah quindi da qua Sì Esatto Devi scendere al volo Capito? Prende il tempismo Niente non riesco più a fermarmi È difficilissimo Lo so Pensa a farla a piedi Steph ti ricordi il codice della valanga? Ma è nelle feature E lo stavano chiedendo Steph Pensavo non ci fosse più No 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 perché? Nooo Dara Ma perché? Ma cosa è successo? Ci ha preso un veicolo credo La trovate nelle mappe feature Quindi entrate nel gioco La trovate in quelle già disponibili Messe da Fortnite Quindi niente codice Ma che cavolo di sfiga che ho oggi Nate No Nooo Ok Qui sono Ciao Ragazzi sta qua è impossibile Beh ma è veramente Io ho davvero dubbi che sia Ho ripreso un veicolo Sì Ho davvero dubbi Anche se poi in chat ho letto che molti prendono il veicolo E fanno quello che hai detto tu Cioè che saltano all'ultimo e riescono a entrare nella porta E molti l'hanno fatto così Sì il problema è che quella è metà mappa Non è la fine No Ah beh però non lo sono Consigliato questo Potre veicoli che mi corrono addosso Come li evito? Ah ah non li eviti Non li evito Non li evito Hanno rimbalzato Da permesso L'ho visto No Permesso Da Permesso Hai un quad Anch'io ho preso un quad Ma è difficilissimo salire La stavo perfettando stavolta Grazie Marco Marco Alberani Per un euro Grazie a squalo hero Squalo hero Per essere il demonato Cosa è successo? No Ragazzi Ragazzi No Levatevi Non mi fanno Non mi fanno Rattare No Perché sono caduto? Non riesco ad entrare nei veicoli Steph levati Cosa vuoi? Non sono io È Nat Gonx se vuoi sali Aiuto Veloce se volete salire Ah ok sei qui Perfetto No No raga No 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 Ho fatto cinque incidenti con Nat Nat vieni al volo No Ti volevo salvare Ciao Ferre Vai Steph vai Gonx devi scendere al volo E salire qua Vai 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 Gonx come sei sceso Salta Ti blocco io Non ha funzionato? Non ho funzionato Ferre sta volando Ferre sta volando E quindi come sal Niente Come dovevo farlo? No no Mettermi dalle Sono imbecilli sti veicoli Perché mi devi mettere Nelle sedile di dietro Se io premo per la guida E ci sono solo io In quel veicolo Non ha senso Nat Nat Non ha senso Raga Ferre mi ha fatto capire Come finire la mappa Davvero? Sì però non si è resa conto lei No ho capito Bisogna riuscire a prendere i quad Esatto E vai di turbo Steph Non è difficile Sì perché vedi turbo Usando la rampa e voli E superi anche turbo Ciao Dara Aspetta cerco di prenderlo Ahia mi ha preso in pieno Sì Sono fermato Scusate sono io Ciao Ferre No non ho capito Dobbiamo prendere il quad No non mi buttate Aiuto me Sì il quad perché poi esatte Ho bloccato un quad Eh niente Ma no Non ci credo Non ce la faccio Ma porca miseria Ci ho preso un altro L'ultimo Questa è colpa di Steph Era perfetta ma c'è entrato lui È colpa di Steph Incredibile Terra ti do una mano Ti blocco Ci sono ci sono ci sono Ok Ok io so fermo qua Aspetta Nat Sali al volo No non fatecela senza di me Steph Ti uccido te lo giuro Veloce Nat Ok 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 piano piano riprendiamo quota Cavolo Ciao Ganks Ma è odiosa È davvero odiosa Tranquilla ce l'abbiamo Contrati sopra un quad Eh Ma porca miseria Ma Ganks No 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 Ganks che mi abbandona Quando io vinci dentro Allora Ti ma ti sto raggiungendo No Ganks Oh mio Dio Oh mio Dio È una cosa bellissima sta mappa Basta basta Fermati L'ho preso l'ho preso No 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 Devo salire Devo salire Devo bloccarlo Ma mi hanno preso tutti i veicoli della mappa Ma porca miseria ragazzi No torna qui Prendo un veicolo Mi prendono 20 Torna qui Ti prendo al volo Odio sta mappa Allora Allora Sì 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 Ragazzi stavo per fare una cosa epica Tutto bene Allora Ci sono L'ho superato Davvero No No Mi ha fatto tolla vendita Non ci voglio che No perché Perché Vieni vieni Lento però Lento No Eh no Meglio non prendere No Fere non dietro Non dietro Eh va solo dietro Quando tu prendi Sto scendente di kart Non è che ti prende La guida Perché Fermati Via 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 Raga Finisco la mappa Ho un quad Anch'io ma Deve Allora Sono schiantato sul tetto Allora Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Il diavolo l'hai fatto No ma chi è che mi ha spinto No No Chi è che mi ha spinto alla morte Raga dopo il primo Non ci credo Oddio c'è un po' Che succede? Che avevo superato il primo turbo Col veicolo Eh pure io Pure io Però poi Sottornati indietro Bellissima Ma la smettere di centrarmi Però è difficilissima Va proprio a impazzire Lo so Non ti ho visto Ti ho visto troppo tardi Allora Se mi centra qualcosa adesso Io sono finito Non lo dire Non lo dire Dai No questi cazzo Sono inutili Perché non riesci neanche a usare il turbo Quindi alla fine vai solo indietro Squad Stai calmo Squad Stai calmo Squad No Sì 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 Kong No 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 Kong è peggio essere in tanti No 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 Perché ci schiantiamo tutti Sto tornando Sto tornando Forse riesco a tornare Ok Stai lì Eccomi Vai 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 Quindi non ce la facciamo Ok Schiva che stanno volando i veicoli Sta per arrivare anche Steph da qualche parte Lo so Lo vedi anche tu Ma perché sono caduto via Ragazzi la mappa è featured Basta che entrate nel Su fornet e la trovate Non c'è bisogno del codice Forza 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 Gox Ci siamo No 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 Non usare il turbo dall'altro lato Ti prego No 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 Mi sa che non ce la facciamo Gox Addio Mi sa che neanche riusciremo a risalire Cavolo eravamo vicinissimi Con tutta la buona volontà Ho provato Sì ma eravamo vicinissimi Ah ma Cioè sto fisso morendo Finché ho questo quad Ho una speranza nella vita Ah non l'hai ancora mollata No mai Da tipo 5 minuti Oh cavolo cavolo Questo in faccia Non lo voglio Fere sono qui Sono qui Sono qui Ciao Gox Perfetto sul boost Ma tutti con me Già hanno tutti i veicoli Non riesco a prendere No mi butto Se non riesci a prendere un quad Tanto è impossibile Ok con calma Con calma Con calma Devo schivare questo veicolo Devo schivarlo Cavolo Cosa succede? Niente Devi riuscire a superarla Col quad È ancora meglio Ah ok Perché se arrivo alla porta Non posso superare La parte dei boost Ah io ho preso un kart Però Ce l'ho rifatta? Ah io stavo per prendere il quad No non ci riesco Non ci riesco Ti prego Non mi buttare giù Non mi buttare giù Il mondo mi odia Il mondo mi odia È l'unica spiegazione È il mondo mi odia No Chi sei? Nat No No Cosa sta succedendo? Eh che cos'è Questa Lo tengo Lo tengo Devi stare calmo Ok Ok Perché quando prendo un veicolo Immancabilmente Ho tutte le auto Che mi vengono addosso Sembra fatta apposta Sono preso tre di fila Che mi stavano per vuotere giù Togliti Visuale schifosa Vai Mi sembra che sono l'unico che è caduto fino ad ora No No si è flippato e l'ho perso Steph che bel glitch Dai Allora Perché Non è possibile Con calma Ora vado Mi ha buttato giù Mi ha buttato giù Mi ha chiesto di flippare i cosi No è rimasto fermo lì Non ci credo Ti prego superalo Ma che sfiga che c'ho Uh Che bambino Nat vai sulla sinistra No Non me lo buttare giù Non me lo mandare Uh L'ho ripreso Allora Voglio un quad Voglio un quad Mi ha arrivato in testa un quad Raga Non riesco mai ad avere il tour Dove sei? Oh mio dio Ok No è stato un'idea terribile Scusate Non ce la faccio Mi prego Mi prego Perché Manca ovviamente Sembra fatta apposta Mi arrivano tutti i veicoli Tutta la mappa Su di me Perché Questo cod è mio Oddio No dai In serio Nat Subito Girati Ma chi è qui? Ma levati Io No 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 Non giù Non giù Ok Guarda Nat Ci provo No Questo è troppo veloce Ti prego Comunque non è semplice Neanche prendendo un veicolo Ma è che credo che senza veicolo Non lo puoi fare Perché la seconda parte Non vedo una strada Che si può fare senza Ok Quindi credo che sia da fare così Dai Gox Tutti ci devono pigliare Adesso l'hai capito Nat L'ho spiegato 5 volte io Dovete usare Il quad per rampare Io non sento nulla Non sento nulla E lo so neanche io Io l'ho anche capito Ma il problema è che è difficile Capito Anche se lo capisci No E nella seconda parte 5 volte più difficile Forza Gox Credo in te Ma perché vai storto Ah volevo provare dal muro Che prima mi stavo facendo No no Non ce la facciamo Vediamo dal muro Nat 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 Gret No Ci stavamo per bugare però Non era così stupido No ti prego Dai non lo voglio perdere No Mamma L'ho ripreso Gox Ci sono Abbiamo un carto addosso però Non so cosa sta succedendo Non lo so Gox Riprendi Riprendi La mano Corri Ma ha preso in testa Che male Ragazzi sto impazzendo Non così No dobbiamo prendere queste rompe Quando la giornata inizia bene Oh cavolo 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 Perché slitta così tanto Ok Perché questa mappa È impossibile Sali su Ti prego È un miraggio Perché non mi ha usato Tutto Non lo so Ti blocco Riusci a salire Benazze Con calma Con calma No Aiuto Come ho fatto Mi è arrivato in testa Com'è possibile Dai era Voleremo insieme Vai vai Grandissimo Di poco Ma che fate voi Ma non dovete andare dritti sulla trappola Eh ci provo Non funziona Sto provando ad andare al muro Steph È ovvio che non sto provando ad andare dritto nella trappola Ma conviene la rampa più che il muro Secondo me Ce l'ho fatta Dove sei? Sali No ho preso un balser Qui sopra Perché? Ti salito? Io non vedo nulla Ho un bag di visuale Dai Dai Ti ho perso? Ma questo era ghiaccio Pensavo non fosse ghiaccio No 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 Non così Quod Sono caduto Quod ripigliate Io non sto capendo come dovrei completare È andato Il mio cod non guida più Ragazzi Allora Completarlo Appena impossibile Cioè guardatemi dove sono E come se non ve lo faccio Vero che non fa? No non fa È impossibile È impossibile Da dove sono io è impossibile A meno che non provo a fare una cosa del genere Ma No ma impossibile Guardate Guardate Ma in che sicuro è fatto? Oh mio dio Ok l'ho salvato Non ci riesco Nati veloce Sali Ok No chi è questo? Chi è? Gonts Fermati Gonts vai leggermente Stai fermando Non ci credo Ce la facciamo? Vera mi fido di te Al mio via devi saltare così come Che noia Perché Ok lo tengo Lo tengo Lo tengo Uno Dai non voglio Non voglio cadere Allora devo usarne uno per riprendere Dopo che eri in corsa Pronto eh Uh bello Ok devo scrivere tutto Ok Il discorso è che devo rifarlo Nat No l'ha fatto al contrario Uh aspetta Sì No Si può fare Vera si può fare anche a piedi C'è un bouncer Un bouncer Sì c'è un bouncer nascosto Sì l'ho visto Anche io No l'hai visto che eravamo su Sì l'ho visto Allora proviamo a usare un muro Dai che noia però Siamo accapotati Siamo accapotati troppo No 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 Il muro fa schifo Il muro fa schifo Non è un'opzione Lo tengo Lo tengo Lo tengo Dai che noia Devo per forza usare un altro turbo ogni volta Allora Ok con calma Allora Allora sto fermo Come facciamo Non ci fa fare il flick Uh meno male Non voglio usare un cavolo di turbo L'ho dovuto usare Uh ci ha stiorato Invece ci ha preso Ma misere i busti prego Ma dai che cosa Natti è il momento Ce l'ho buono Sta per finire Allora rincorsa Allora rincorsa Oh ma c'è questo qua da solo Non ci credo Abbiamo fatto una capriola Stef sei scalso Siamo troppo veloci Non ci fermiamo stavolta Postatemi L'ho fermato L'ho fermato Ciao Fere No dai Stef Mi fai ricadere dietro però Uh Non devi prendermi No Oh maledetto quad Io sto cercando di arrivare da gonx Così sfrutto il suo quad No non ci credo Perché dera mi si è schiantato sopra No aspetta Stef Ma io pensavo che tu hai Ma io sono Stef da due ore Nato dell'imbecille Cioè cos'è che è successo Nats pensava che io fossero Sì da due ore Sì da due ore Non ci vogliamo Allora Dovevo tornare indietro Magari Sei tu il problema Stef Stai prendendo tutti Mi battere da sta mappa Mi battere da sta mappa Mi battere nulla Sulla sinistra Che è appena volata No dai Sul turbo Sul turbo Ok ci stiamo Ci stiamo Voglio arrivare con velocità ai muri Ed è un problemone Non vedo più niente Ci siamo incastrati Bene siamo salvi Sì ci siamo incastrati qui dentro Siamo salvi Ma dai ma che sfiga Penso che sia la volta che moriamo No no vi tengo io Ok Non ci credo Ok Ma fai schifo Cox morando Sì Sì Secondo me entrando dalla finestra C'è qualcosa che si può fare Però no 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 Perché siamo in là No Non lo so Nati dimmi le probabilità Dimmi le probabilità di questa cosa No Ho preso la seconda rampa Dopo il primo turbo Avevamo finito la mappa E in quel momento è volato un veicolo Che ci ha centrato Eh vabbè La sfortuna Eravamo perfetti Oh mio dio Però sta arrivando un po' da destra Non ci posso credere Aspetta io non ci sono ancora Arrivo L'ha preso ad ora Vabbè Rip Un altro Niente lo sono riuscito a prenderlo Lo so No 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 Questi Non ce la faccio Non ce la faccio No di nuovo Ormai stavo andando troppo lì Non ce la faremo mai Non ce la faremo Nooo Oh mio dio Ok Ragazzi la live non si blocca Non dire che lo sia Sto andando bene Nooo Prima o poi dovevamo morire Nat Perché? Perché? Ma perché? Non mi ha preso Ognuno c'era niente Di fronte a me Hanno ragione Si può fare il trenino Nella mappa Comunque volendo E come fai? Una ti va La bouncer Cioè la trappola Quella che ti spinge E quindi automaticamente Poi non riparte Per un po' No mi sa che riparte subito No riparte subito Riparte subito Quella trappola riparte subito Sì 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 Non ha un cooldown quella Cioè ci puoi saltare All'infinito Che ti parte sempre Oh mio dio E sono morto E adesso quando riusciremo A riprendere un veicolo Cavolo Io non ci sto riuscendo Non ce l'ho Ma mi stanno buttando Non dico niente Niente? Non ce l'hai più? E inizia a scivolare Allora io l'ho preso Mi è arrivato un po' Subito L'ho preso al volo Mi ha spinto giù Dera Dera No step ti odio Non sono io Sì che è di tu E Dera Io sono su un veicolo Lui ha la macchina Blu Tu hai la macchina gialla Ok adesso meglio Ma io neanche ti ho visto Che vuoi Allora Dove riuscire a bloccare Un cavolo di quad Lo sto bloccando L'ho bloccato E ma No 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 Mi serve un punto safe Mi serve un punto safe Prima di morire Scusami Non scelgo per prendere il quad Non l'ho bloccato Non riesco a bloccare un quad Ragazzi 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 Allora Io faccio una cosa Molto Molto intelligente Lascio un quad qua Qua No Perché ce n'è un altro qua dentro Davvero snervante Guarda Sì Porca miseria Ma quasi quasi io torno a defra Ragazzi Eh beh guarda Bella scelta Non so quale sia peggio Guarda Non Questa però ti garantisco che noi ci siamo andati vicini due volte Ma proprio vicini vicini No Ferri hai ripreso quel quad Sì Mi sono bloccato Vai fare Vai così Ok Sono riuscita a fermarlo Aiuto Guarda c'è un quad lì bloccato Lo vedi? Sì No Nat Non prendere quello Oh che culo Scusate Aiuto Tranquillo Aiuto Questo non lo voglio Perché sei entrato qua? Nat Come facciamo adesso? C'è un quad qua dentro Nat Aiuto No Troppo sto volando No 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 Fermati Fermati Eh vabbè vai al diavolo mappa Sto cercando di usare il turbo Ok 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 Siamo vivi Per il momento Ciao ragazzi Ciao Stan Ci stiamo provando Allora Tipo qua devo dare la rampa Nat Ci sono un cavolo di quad Sto andando troppo Mamma mia quanto è difficile Prova a fare il generoso Aspetta Che Ma che cavolo mi stai avanzando Adesso Altro che generoso Non ce la faccio Mi hai preso in pieno Anche provando dal muro Cox È difficilissimo Aspetta Io riesco ad andare tipo qui Ma chi è questo? Eh posso prendere quello parcheggiato? Sì puoi prenderlo Puoi prenderlo È perché ce n'era uno là dentro E non volevo Speri che ce n'è uno qua dentro Come si possono superare questi? Perché io ce l'ho fatta sempre un po' a fortuna Buggandoli Ma c'è un modo per superarli sempre? No non ci riesco neanche così Non ci arrivo Ci arrivo troppo corta Capito? È perché devi azzeccare le direzioni Devi andare prima di W Ok E poi di S Quando sei quasi alla fine del turbo Devi tenere sempre il turbo premuto Quindi usarlo tutto Guardarmi un attimo Aspetta Sto cercando di fermarmi Da qualche parte magari Perché al diente Non c'entra un veicolo Eh ma c'è entrato uguale Ero parcheggiata sulla rampa Non mi posso fermare Devi stare sotto una rampa Lì non puoi essere ritata Aspetta 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 Sto cercando di arrivarci Ma Si scivola un botto È arrivato un atto A centrarvi Ma porca miseria Oh Ma ragazzi C'è Gons Che è contro di noi Sì esatto Totalmente Come si chiama? Con un carretto E salendo verso di noi Dai Niente Niente No Sono morto Dai Davvero ho buttato sto quad No 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 Dai Cos'è sta roba? Aiuto No Non ce la posso fare raga No niente Sono morto pure io Ho buttato un quad raga No Mannaggia Non ce la faccio Non riesco a tornare su L'ho buttato uno L'ho preso Non mi fa salire Non mi fa salire sul quad No Allora Piano piano Sì No Perché sono cascata testa in giù Steph Steph Dimmi Steph Ok Ci sono Riprovo eh Ok Piano piano Dai Vai Eh sì sì è buono è buono è buono Adesso devi riprendere un altro muro Mi sei rotto il quad E' buono Vai Steph Che ne è uno bloccato qua sulla destra Turbo 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 prima che togliamo Aspetta che sto guardando Continua Cosa dobbiamo fare Continua dritto Continua Turbo 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 È finita Steph viene a prendermi Grande Dela Con l'aereo viene a prendermi Cosa c'è qua dentro? Non si può rompere? Possiamo sereo aprirlo Dimmi che c'è un rampino Vai Nat Allora Adividiamoci tutto Perché è pieno di roba Io ho 4 più 1 Aspetta Steph non provare a attirarci l'impulso addosso Prendi questa Ok Gli stereo sono inutili no? A che ci servono? Io li prendo Tieni 9 di queste Ma alla fine Steph Controlla bene Sei sicurissimo che sia alla fine? L'abbiamo finito Perché praticamente Adesso ti faccio vedere Guarda Cosa devo fare? Devi prendere l'aereo? Ah L'hai preso il respawn Spero di sì Vai Nat No No Era buono Peccato Peri guarda Aspetta sto guardando stai Nat che te Devi andare lì sopra? Sì Guarda Ok Chi vuole venire con me ragazzi? Io sono ancora qui Sto per saltare dal pad Teoricamente Vedi? GG Sì Carina Carina Dai finita Ragazzi da me Venite da me Ciao Rientra Dai Dai Ok Io sono qua giù Perché? Perché l'ho perso? Non mi fa salire Non mi fa salire Non mi fa salire Non mi fa salire Stai scendendo da ammazzarmi No Però è difficile Stai lì E devi uscire fuori Devi andare Invece ci sono le trappole E andare verso l'alto Vedi quelle frecce blu Sì Devi seguire quelle frecce blu Quindi andare dritto Oh cavolo Oh cavolo raga Devi uscire un turbo E andare verso l'alto adesso Turbo 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 Perché sono morti io Alcuni È morto? Ah verso l'alto Perché mi ha preso una macchina in testa Sì è morto È morto Verso l'alto Verso l'alto Qua Ragazzi No è difficile Perché siamo partiti Che siamo messi in malissimo Oh dio Oh dio Vai Sì L'uscita finalmente Avete visto come sono salito? No vabbè Cioè ragazzi No Cioè io su gongs Ha vinto pure gongs Gettandosi così Sì 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 Praticamente si è lanciato Ha preso l'aereo al volo gong Davvero? Sì al volo Ho rimbalzato sull'elica Sì 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 E' l'aereo eh Vabbè no Noi ci siamo tolti Siamo qui sopra Ma non fa nulla Siamo sopra C'è scritto gigante Sì sì Ce l'ho già io Poi mi ha tolto l'aereo E sono dovuto andare a riprenderlo Venite qua e balliamo L'ho anche parcheggiato perfetto Eh io sono un pochino indietro Eh lo sapete che se corrette qua Continuando Ogni tanto capita che vi dita un veicolo Davvero? Io stavo correndo e mi ha ammazzato un veicolo Davvero Assurdo Dera da qua cominciamo noi No Non prendere l'aereo Non scendete tutti Perché che succede? Perché non possiamo risalire In modo che io possa cliccare Vabbè tanto abbiamo finito dai Mi ho capito ma non voglio sprecare tutto Nat va più avanti Facci sali E' il donation per aver vinto Grazie mille supporta creator Sto 23 17 per i 10 Grazie Poi la vinta Steph Io sono rimasta No la vinta Dera Dera è stato Si L'ho vinta No Noi abbiamo seguito Abbiamo preso il passaggio Ovviamente Ci stava Poi Io due volte avevo fatto tutto perfetto Ho avuto una sfiga micidiale Quindi Sono soddisfatto Però Sai che gli aerei volano da soli Vero? Se a questo risale su io lo prendo No praticamente Non so perché Ma quando tu stai qua all'aereo Ti molla Non ho capito perché E' tipo automatico Forse si entra troppo in alto Non ho idea Può essere troppo in alto Nat Guarda Riescire a risalire Guarda Dera lo può uccidere Fere sai che mappa possiamo fare? Dimmi Andiamo in creative raga Non li vatte Andate solo in creative hub Ok Possiamo provare a fare Quella che avevamo fatto nel video Quella Delle Tutto trappole Che dovevi correre velocissimo Quella che sembrava un tempo al run Ok Quella era molto bella Quella era molto carina Ci cosi non mi posso andare in bagno? Beh tanto l'ho inizio a impostare Ok Oppure raga anche fare Jason Ma Secondo me è più divertente A fare queste cose Se riusciamo a finire anche quella Abbiamo completato tutte le mappe Che non abbiamo mai finito in video Raga ho reso un attimo Nero lo schermo Che devo controllare tutti i codici E devo vedere un attimino Perché altrimenti Vi spoilerò Tutti i video Che devono uscire da qui All'eternità Fere ti ricordi il nome? Controllo nel video Allora Aspetta 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 Farebbe ridere anche Mirror Madness Però esce domani Vedi ho spoilerato Mirror Madness Ho spoilerato Eh bravo Vabbè Quelli della live Ci sono che domani Esce Mirror Madness Vabbè Secondo me è questa Rimetto che si vede Secondo me L'ho zecata Grazie Carlo Benze Grazie ad Animals Scritto Animals Strano con la E E per essere gli abbonati Entrambi E Spero di aver zecato la mappa Raga Non sono sicuro Eh Aspetta Torna al centro creativo Giusto? Sì Io Eccomi Stiamo vedendo Se ha zecato la mappa E questa è il loading Qui da me Io Prenderò del 5 Vabbè che io C'ho 80 HP Perché ti lascio gli HP Di prima credo Ah Non te li posso nemmeno togliere Eh meno male Ma io mi confondo Tra voi due Cambiatevi skin È colpa di Dera Io ho la racchetta È vero Io ho la catana Ciao One Grazie mille per l'attenzione di un euro Ok raga Andiamo a vedere L'avete letto il codice Fere è questa Sembra di sì Sì è questa È questa È questa Ok Steff è quella col ghiaccio? Eh Nat è quella che avevamo fatto Io Fere è tipo sette giorni fa nel canale Che è tipo una corsa lunghissima Con le trappole Sì Sì ho capito Ma sei sicuro se è questa? Sì Fere Però non me la fa startare Controllate se avete voi il tasto? Io ce l'ho Ok premettelo E che noi due non ce l'avevamo? Sì Ma l'avete Ok Cattivo Meglio non farmi domande Allora i primi livelli sono anche fattibili Poi diventava una follia Vabbè io l'ho Ci avevo messo un pochettino Di qui? Ma c'è la ballerina serve? No È per non avere il piccone in mano Della ballerina Non me l'ha data Io l'ho pensato ma non me l'ha data Perché sta laggando Ah ecco adesso Poi a me non dà particolarmente fastidio il piccone Vabbè anche a me non dà fastidio il piccone Ne ho scelto un abbastanza piccolo Quindi mi va bene Come deve incominciare Ora ti faccio ballare i fist Allora Io mi ricordo più Ah sì La volete voi? Ok Prima trai No io me la so ricordata Ma eravamo in due in due Non fa farla Bisogna farli una volta Se no non riesci a prendere la strada giusta Allora Non mi ricordo minimamente Steph come era sta mappa Guarda Beh questo è tutto quella cosa di sinistra a destra Ora me la so ricordata bene Sì Steph Ciao Nat Ci devo mettere 20 anni In che se c'ero già riuscita Eh l'avevi visto sì 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 l'ho visto È il salto middle Il terzo livello è quello dove tu abbia stambiato tanto Quello degli spuntoni? Sì Sì è il terzo Quello è tosto In realtà Guarda Non così tanto dopo che imparai la meccanica Come sempre Ma perché non mi ha saltato? A me non ha saltato il ghiaccio No No non mi ha fatto il secondo salto Avevo fatto tutto giusto Allora Vediamo qua Eh scusa Perché non sono arrivato alla Ma dove era? Ok Eh sì da noi era Sì sono da voi ma Perché non mi ha fatto arrivare lì? Non lo so Ok Fatta Ma è possibile Devi saltare a metà della trappola che spinge Spero mi abbia preso il checkpoint Perché non riuscivo a fermarmi Quindi spero mi abbia preso il primo checkpoint Te lo prende per forza credo Te lo prende per forza Dara where are you? Ma perché stanno andando Ah sono andando all'altro lato Eeeh Eh perché ti volevo far vedere come si fa Ferre non è il ghiaccio Ah lo so non me l'ha preso E mi hai ucciso Che vuoi Steph? Non faccio il tempo a partire Capito? Sono spawnata direttamente lì Quindi non Non riesco Capito Allora Ho capito Ho capito Ho capito Sembra banale come livello Ma non lo è Ah Perché poi ce l'ho riuscita a farlo Raga dovete Ehm Fermare la live Tipo quando stavamo entrando E lì trovate il codice di questa mappa Perché Se ve la ricerco su internet Ci metto almeno 5 minuti Perché l'abbiamo fatta da un po' di tempo Io fare Ah io sono morto per forza Ok Capito No Non ero abbastanza veloce Pensavo di stare abbastanza veloce No non riesco a saltare Uffa Questa secondo me non riusciamo a finirla Ah Non questo livello Questa mappa No 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 La mappa La mappa Porca miseria È davvero tosta Bravo Nat Ce l'ho fatta Stavo guardando Nat Occhio al coso Sì Ok Gigi Opla Annaggia che non mi salta Che nervoso Grazie mille Antonio 67TM Per raggiungere di 2 euro Vi voglio bene Grazie mille Antonio No non ho preso il ghiaccio Più lag A me tipo Si è frizzato tutto Ragazzi L'iceking L'abbiamo registrata Quindi per quello Non la facciamo ora Perché deve uscire il video Hai visto Nat È la seconda volta Che sbaglio lì Che palle No che no Tra poco ti raggiungo No non salta Devo aspettare un pochettino Perché sennò non mi prende la trappola del ghiaccio Yeah GG staff Ce l'ha fatta? Sì Ma come si fa Ma come si fa dopo Quando c'è la Quando arrivi alla scalinata Devi azzecare il punto perfetto In cui saltare Per andare Nei padini che ci sono sopra Ma a quale punto devo andare Non capisco È la seconda volta che ci arrivo Non capisco Quando devo saltare Finalmente ragazzi Sono riuscito a rifare Guarda non mi salta È un Leggermente prima tipo No è dopo Che tocchi il muro Teppo siamo battiti insieme Ma ti sto morrendo solo perché Non voglio usare la tua stessa trappola Vai al lato destro scusami eh Siete solo voi due Tu fai destra e lui sinistra Ok perché prima c'era più gente Eh lo so No Oh no Non mi piace questo lato Ho sempre fatto l'altro Capite? Anche a me danno fastidio questa cosa Mi intripa il cervello Nelle cose girate Capovolte Non riesco più a prendere il ritmo Che avevo prima E così via Allora Ok No prima devo saltare La devo prendere all'inizio No quasi Cavolo l'ho anche già fatto Sì Ce l'ho fatta di nuovo No quasi Stef io Ah Livello 4 Stef stavo attaccato a te Stavo Davvero? Sì Questa era la prima volta Che lo facevo realmente Perché ogni volta Stavo pensando solo allo start Grazie KinoWolf per l'inzio in 099 Nel video l'ho fatto tipo 15 minuti Mi è arrivato Gonx Eccomi Per un attimo Per un millimetro Non ci sono arrivato I padini Farete Red Dead Redemption 2? No Perché tanto al pubblico non piace Quindi non avrebbe senso Cosa? Il gioco Beh non credo No non è morto È comunque uno dei giochi Che ha venduto di più Nell'ultimo periodo Anzi forse ha fatto davvero numeri assurdi A livello di vendite ha fatto numeri incredibili Quindi il problema Il problema è che non va su YouTube Quindi al pubblico non interessa Voi no Voi non mi avete detto che c'erano dei carretti Sì che devi dare come rampa Scusa Ero convintissimo No no è orribile quella parte Ho lasciato tutto In un'altra stiera Ho detto oh perfetto Invece no Mi sono scattato su un carretto Dove sei andato? Eh sto cadendo giù Ragazzi io non so come arrivare da voi Devi fare i livelli Eh non so dove start Mi sono in una prigione Tutto chiuso Non è che siccome Sì Perché non mi salgo poi qua? Cioè? Come dire che in una prigione? Eh tipo Il pre start se non sei dentro Una roba del genere Questo livello è irritante Il 4 è davvero Al limite del Sopportabile Io ho paura di fare in game Start game No Prova A fare Respawn Magari ti fa suonare Poi nel posto giusto Il posto giusto È invece una ballerina Ok Sono arrabbiato Oh ci sono ci sono Sì Nat che ce la fai Il problema è questo livello Nat Ti ricordi dove si saltava con le gomme? Sì Ecco Io ti giuro Quando ho chiuso Perché non avevo neanche contemplato Come si potesse finire A quel livello Chi ce l'ha fatta? Ad era? Sono quasi arrivato Cioè Guarda questo livello È proprio Easy Ok No Stef L'ultimo salto Mi mancava Quello dove impazzivo io? Sì Quello è difficile Perché devi essere straveloce Dera secondo me Lo dobbiamo fare Occhi chiusi Bandati Questo è molto più easy Questo è molto più easy Oh mio Dio Sono in altissimo Aiuto È più easy Che te Mi confronta la destra Ma ne ho deciso Questa è Guarda quello che sto facendo adesso È davvero difficile No 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 Ti giuro C'è un checkpoint Sto vocale Non lo voglio sapere Oh mio Dio Sì Però se scendo qua Puoi Continua È giusto Perché non riesco a fare le cose Che ho già fatto Io mi chiedo Qui non voglio andare Lo so Ultimo salto Livello 5 Non ce l'ho mai arrivato Raga Hai vinto Chissà quanti sono Ma che hai vinto Magari Non so neanche se sono a metà mappa Oh mio Dio raga Quando mi sono visto giù Mi stavo per sparare Non lo so Io faccio sempre queste mappe Senza sapere quanti sono Quando ci sono le scale Che devi fare quel salto A che tempismo lo dovevi fa Non mi ricordo più Mi schianto sempre Prima Poco prima del muro In modo tale che quando salti Poi sbatti sul muro E ti porti a lui su Non riesco più a farlo Ah raga Io a un momento mi butto qua Niente Non riesco più a fare nulla Cos 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 Eh Steph l'hai visto con il supporto a cretore in cielo Eh non si capisce niente Cosa quella roba che sta facendo Steph L'hai visto Dara? Eh non si capisce niente Ma zero Ma è totalmente casuale Steph All'altra è impossibile Di nuovo l'ultimo falto Steph Ma non sto capendo Ma che è? Ma che è? Ma che è? Che paura Per è tutto in mezzo Tu non sentivi ma c'è gente che Sì Ti stavo vedendo Ti stavo vedendo però E infatti notavo che prendivi danno Ah io mi ha fatto edge No Ma no Ma come fai? No No Ce l'ho fatta Grande Nat No non ho preso il carrettino Perché il mondo mi odia Mi devo ricordare che alla fine ci sono i carrettini Non me lo devo dimenticare No Ragazzi Io ho un problema con il livello 2 Anch'io Ho un grosso problema Anch'io L'hai capito il salto middle? No Devi saltare In modo tale da prendere la trappola tipo C'è quello che ti sbalza Tipo a metà Ah ok Perfetto No Non mi sparare Non mi sparare Il carrettino Quindi ora ho felato tutto Immagino Sì Che il carretto è una rampa Però è finito il livello Quando arrivi lì Perché non me l'ha preso? Cioè perché nonostante aveva preso il carretto Non ce l'ho fatta e sono tornata all'inizio del livello Perché devo essere solo ecciotato da questi qua? Cioè l'ho preso Sì l'ho visto Non ho capito Non che io Cioè ho sbattuto contro il muro e sono tornata all'inizio del livello Non so perché Non so perché mi è successo Vabbè No sto guardando Steph in questo momento Mio Dio Quel livello è pesante raga Sì Quel livello è pesante Tira la ballerina Sì così stoppo uno Ma sono tipo 20 Ogni cespuglio che voi vedete raga Mentre corro È uno che spara E poi le ballerine fanno ballare i bot Cioè quei robottini Cioè questo livello l'avevo anche superato È davvero incredibile che non riesco a rifarlo E anche io Pure sembra semplice Sì no rispetto a quello che c'è dopo Ti assicuro che è easy proprio Non mi rinfuore la cosa A quello delle gomme Perché non ha saltato Veras è quello delle gomme Anch'io io sto sulle gomme E quindi hai raggiunto Nat Steph l'ho fatto Oh congratulation Fer Sì io ti ripeto Anche se le cose le faccio Poi adesso magari ci riprovo E ci rimetto altre due ore Per quale motivo sono arrivato alle gomme Attaccate al muro e non mi ha saltato Sì ecco Quello è il primo problema di quella zona Quando arrivo al muro che mi sbalza sui bounce Ok Aspettate Aspetta non sto capendo nulla Parlami gonx Allora io faccio questa parte Arrivo alla freezing trap Salto sul boost Ok Arrivo al muro Poi lì in fondo Devo saltare o non devo saltare Ma quando ci sono i carretti Prima dei carretti Prima di arrivare al piano dei carretti No non devi saltare lì Mi sta Ok vai in automatico Mi sta di sì E poi devi saltare quando prendi il carretto Perché altrimenti Ok perfetto Sbatti sul muro come ho fatto io Cosa devo fare Sì devo saltare Dovevo arrivare col ghiaccio Per No Si muore di caduta Non le gomme no È possibile Ma oh mio dio Stai iniziando a parlare da solo bisbigliando Perché io non ho il checkpoint E non capisco Ma è in accosto No pensi dove fare tipo così 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 riuscire a stopparmi qua Prendere Ma stai scherzando Che è veramente così Resisti Resisti Oh mio dio A livello 6 Dove sei Nat? Ho visto Nat cadere in testa Sei a quelli che sparano Sì Ok Te l'ho detto da mezz'ora Nat non ha idea Un attimo Un attimo ragazzi Perché allora Io sono Praticamente qua Ho appena finito le gomme Dove devo andare? Perché mi sa che devo andare a sinistra Non ho capito Ci sono Un tipo più respawn Sì Dove vedi Dove ci sono il respawn va bene L'importante è che non venga il burrone Grazie Little Angel Paradise Per la donazione di 349 E poi per la donazione di 229 Grazie mille a T-Pock One Per la donazione di 1 euro Come potrei contattarvi in privato Trovi su informazioni dentro il canale La mail Grazie a Fail Game Fail Game TV Per la donazione di 1 euro Nel mentre raga comunque In descrizione Le mail Sensate Tipo commerciali O business Esatto E in descrizione comunque Nei video Non in live Ma quindi in tutti i video Trovate un nuovo link Che abbiamo messo Per poter Per poterci mandare Delle mappe di Minecraft Quindi se volete creare Le mappe di Minecraft Ce le potete inviare In questo modo L'obiettivo ovviamente È trovare qualcuno Che riesca a buildarci Le mappe carine Per poter fare dei video Oh Sì Viva Questa mappa Dimmi da Mi stanno uccidendo sempre Non so perché Anche a me a un certo punto Mu ho iniziato a fare solo che �� Wow Solo Hatch a un certo punto Allora io sto avendo problemi Grossi problemi con questa mappa Solo tu guarda Io quel punto dell'Espina poi Ma non ci arriva Aspettate ma non ci arrivo lì Difficile difficile Zsp4s Donazione di euro Il codice della mappa Il codice della mappa non me lo ricordo Perché l'abbiamo registrata tipo 14 giorni fa Però se tu torni indietro nella live Quando noi stiamo entrando si vede il codice Come posso fare sta cosa Perché c'erano delle bare intorno No non penso fossero bene Come posso fare sta cosa Venga qualche consiglio No Io per andare a scuola prendo il treno Delle step 23 17 Bellissimo Stefan Dimmi Nat Il secondo salto è impossibile Eh Nat Quando vivi quella cosa dove stanno tipo le Terra Capito? Eh io sto già provando questo ma non riesco a capire Ma Terra Eh It's incredible Good job No vabbè era easy Ehm Più che altro Qua Eh io ancora sono morto tipo 6 volte Non ho ancora capito Non comprendo come sia Sì perché non fa fare salto Io ho pensato che c'è un doppio salto No non c'è un doppio salto Dobbiamo saltare sopra queste Aspetta Allora Praticamente ci sono le gomme qua davanti Secondo me se saltiamo c'è un padino dietro Dietro questo muro 10 Sì sicuro Al 100% No no Non c'è un padino Ok Terra Dai Non c'è un padino Allora Mi ha preso in faccia Nat Come mi avevi preso in testa tu Anche se siamo in un altro livello Proprio siamo scontrati dritti Terra non capisco Oh mamma mia È incomprensibile Oh Ci sono andato Come? Non lo so No 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 Non lo so non è accettabile No non lo so No non lo so non l'accetto Ho fatto un salto Ho fatto un salto Non è fatto un salto Fai un salto pure a te Che ti devo dire Ho provato sei volte Non è fare un salto Vai di nuovo Non è così fatto Ciao Nat Ah ho capito Vai Hai presente che quando prendi Praticamente le gomme No Quando stai per saltare Se prendi Se premi space Nel tempismo giusto Vai più in alto Ok Ho capito Hai capito? Sì l'ha capito È chiarissimo È chiarissimo Adesso va 448 Chiudi gli occhi un attimo E ho finito il livello Quindi tanto non mi salta più il personaggio Sperai mi è triggerato le frasi in capo Eh lo so Infatti Mi sono fermato lì Bisogna andare uno alla volta Poi c'era Nati che mi camminava incontro Ah ma quindi in quel livello bisogna salire sui tendoni Ecco qua No ragazzi sono Vabbè non sai quanto adesso sono caduto nei vari livelli Ok sono andato molto avanti Il problema è tutto il resto Non basta quello che ho fatto No No ragazzi No Ragazzi io sono di nuovo a livello 2 Perché sei di nuovo a livello 2 tu? Non dirmi che cadete Perché ho lasciato andare E praticamente Dai No dai Mi sono fatto il livello 1 praticamente E ho preso il respawn di livello 2 No Non ci credo che sfiga Non ci voglio credere Con gli spuntoni è difficilissimo E' il pezzo dopo che mi staranno problemi a me No io Cioè arrivo a metà di quello Ma di quello degli spuntoni Non riesco a prendere i tempismi Ne salti Ti niente Non capisco Stai fai cambiando la mappa Ma abbiamo solo questa Mi sa Tra quelle non finite No ok Grazie a Michael Menini per esserti abbonato Ho reggiato nel video E ho finito di fare le cose Io sono disperato Ho deciso di smettere Non lo ho ma ti credo Non lo potevo più Sto provando L'unico mio consigliere Ed è morto Troppo presto Nella vita Porca miseria Che nervoso Che sono al secondo adesso Che dura tre ore Stupendo Raga io Vorrei anche cercare un video Per vedere come si fa Ma non so che mappa è Endo non l'ha fatto Davvero? Il nostro amico Endo Ma questo no Ma perché sei il nome di questa mappa? L'ho letta prima nel E te lo ricordi? Più o meno Però la posso trovare Per andare dietro nella live Perché? Che poi Endo non lo conoscono Perché è della mappa Ice Ah si Ice King Capirete 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 quando esce il video Della mappa Ice King Ma Endo è il nostro Nuovo migliore amico Perché? Capirai Capirai Ha giocato con voi Sicuramente Più o meno però Più o meno Si può dire di si Io mi fermo a questi spuntoni Li prendo sempre dritti in faccia Che si era Da quando ti ho raggiunto a fare E hai detto degli spuntoni Li sto prendendo fisso Ma ciò come hai fatto a farli? Cioè riesci a superarli? Si sono riuscito a superarli Adesso ti ho rincontrata Stefan ma tu mi vedi sopra La maledizione Sotto di te Eh no Nat Ma mi ha laggato un botto Io sto crepando dentro Mi ha laggato quindi non sono riuscito a fare il salto Ho bisogno dell'uomo nella mappa Perché almeno guardo che salto fanno Perché vi giuro Non fa Gonk se si riesci magari cerca Se puoi Si si certo Sono appena morto Angelo si chiamava Ci sono Ci sono Eh ora vado Ci sono Che ci riusciamo Si si non ho più problemi Ugala ugala Impossibile Perché faccio queste scemente Grazie Daniela Sayu per esserti abbonata Come passi dai toni arrabbiati Ma mi sta laggando un botto Non riesco più a fare i salti Ma perché mi lagga Di nuovo tu stai morendo lì Ho preso il checkpoint livello 3 Nooo Ce l'avevo fatta per la prima volta C'è Stef Ma perché tu prendi Perché dovete smettere di prendere i checkpoint Mi state facendo via la paura di fare sta roba Ormai ho paura dei checkpoint io Ho preso il checkpoint livello 3 Dai tu dove stai? Io sono al 4 Che po' Al 5 No forse al 4 C'è dai ho preso il checkpoint livello 3 Ho messo il nome della mappa su youtube E Non l'ha fatta nessuno Aspetta Eh perché intanto le cerco molto sconosciute io Vabbè ci sta Città ai materiali Magari questi materiali Guarda No raga non si può Non si può costruire Non si può fare nulla Quindi non si può citare No Non voglio checkpoint Grazie Per me la nuova frase È il posto di non voglio i fazzoletti È arrivata le troppole Ma niente Ok Non ho trovato nulla Raga non sto riuscendo più a fare il livello 3 Nate siamo nella stessa situazione Io vi vorrei presentare il livello 6 Sì ma io sono andato al livello 5 Gonks E l'avevo fatto Però c'era un buchino proprio piccolissimo E io ci sono andato dentro Eh mi dispiace Ma visto che l'avete tutti fatto Tra un MFR Dopo che arriviamo al A superare i 2 W Ok Dove dobbiamo andare? Eh a destra O a sinistra Perché a sinistra c'è la stessa identica cosa No vabbè Non riesco a raddrizzarmi Guarda Steph che sta combattendo contro L'invulnerabile Eh vabbè Ho visto la scena stessa Ti capisco È difficile Boh Non so cosa dire Che poi inizia a spararti anche quando ti spalle È incredibile Il livello 6 è davvero incredibile Chissà quanti sono poi Perché non ti dicono poi Sarebbe carino che nella descrizione lo mettessero Tipo 15 livelli Io sono scritto Difficulty insane No non è il caso Ma quello sì Però sarebbe carino anche sapere Quanti sono Come obiettivo Nella mente Che magari Primo o poi riuscirai a Finirlo Qualcosa del genere Ma è impossibile Qui Stavo per tirare un pugno alla scrivania Niente Non ce la faccio Vado troppo storta nei salti Ma voi ci si aveva di oltre gli spuntoni Raga Io sì Una volta No un paio di volte Però Non riesco Bene dove andare Esatto io non riesco a reddrizzarmi Dopo i salti Quindi lì Oh mio dio Ma neanche per sbaglio ancora Non ci sono neanche vicino No il tavolo singolo Ho sbagliato Neanche da vicino raga Vai No qui poi vado storta Qui vado storta Che noia Grazie Giulia e Florenzano Per danza in 0,99 Ti dicono Steph devi andare a sinistra Tutti Quella a sinistra Non so però Io te l'ho letto Perché lo stavano spammando tantissimo Sinistra Non destra Steph è presente gli spuntoni no? Eh Dopo che finisci questo Sì vabbè ma come faccio? Ok che devo andare lì Ma come? Sì Quando arrivi a quello più esterno E poi ti devi reddrizzare Per fare gli ultimi Dici Come cavolo fai? Cioè io vado così E poi non c'è Lo inizi a fare mentre salti Niente Non ci riesco Niente Neanche mentre salto Se vuoi te lo faccio Quei livello Tanto No boh Non lo so Stai facendo il tuo Dai A lei impazzire come sto impazzendo io Dai Il gioco non mi fa compagnia Sino a quando non lo supero Vabbè perché poi vorrei vederla Su quello dei Delle gomme Sì ciao Steph cadi sul checkpoint Voi tu? No muori No raga ma come? Aspettate C'è qualcosa che Steph Non sta capendo Siamo tutti d'accordo Voi vedete cose Che Steph non vede E che E va bene Ma che cosa Non vedo? Cosa non capisco Di questa mappa? Sono caduto qua Continuano a dire tutti A sinistra Steph Non so quanto ti possa essere utile No no perché hanno ragione E quella è la cosa fastidiosa Ma è talmente un casino Che non ci riesco Non so io Continuo a leggersi i commenti Perché quello che leggo Sto vedendo dalla live E mi sembra facilissimo No sbagliato E' quello il problema Perché ti garantisco che è più difficile di colunque altro livello Allora vediamo Ma mi dimmi Il problema è che Steph No 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 Non voglio checkpoint No Ok Dicono che hai rotto lo standard a sinistra No Quello è una scemenza Eh no lo stanno scrivendo tutto No non penso sia possibile rompere le cose Ma non si possono rompere le cose Cioè io adesso mi metto Scusate No no Non fa Non si può rompere nulla ragazzi Ovviamente è bloccato il fatto Come non puoi costruire Non puoi neanche modificare E rompere le cose Allora Allora Sembra davvero strano Io ho capito cosa dicono Però devo capire come riuscirci Sì ma questa cosa Dello standard La stavano scrivendo davvero in tanti No lo standard rotto è una scemenza Però devo andare Allo standard di sinistra Ok Prima di fare quell'altro salto Allora Prima di prendere la speed Devi rimanere Prima devo fare quel salto E poi andare a sinistra Ma come Grazie Ninja Junior Prima di prendere la speed Devi rimanere sulla trappola congelata E andare a sinistra Eh Ti sto leggendo i commenti No no si È così È così È così Ho capito E quindi Te li provo a leggere Oppure mi stavi portando sfiga Nat Esatto Esplodi Nat No con se ti odio Eh Te lo sei meritato Qualunque cosa è successo Io ti regalato la trappola Congelante Congelante E sono caduto Calma No comunque dicono Steph Tutti che l'hai rotto tu Quello standard Non so come sia possibile Ragazzi è difficile Mi consiglio tutti Sì Vabbè che la vedo fuori mappa Perché sono caduta fuori dalla mappa Stavo leggendo Ti sei guarda Steph forse ho capito cosa devi fare Stavo leggendo un po' di chat Saltare Mentre si sullo standard E passerà a quelli di sinistra Perché c'è uno spazio più lungo C'è uno standard In più In quelli di sinistra Sono più avanti Non ne manca uno Sono semplicemente Un po' più avanti Eh sì Il discorso della live Il discorso è riuscire a fermarsi Ragazzi non si possono rompere le cose Non lo fanno E chi dica wolf229 E vai sul muretto sul bordo Sì lo so che potrei Tentare di citare così Però voglio finirla la mappa Per davvero Sento che è fattibile Quando io sento che è fattibile Almeno ci provo Senza arrendermi Quando capisco che è impossibile Do forfe io stesso Questo forse è il livello Del livello 3 Quello che stiamo facendo io fare Del livello 3 E' nato Ah ciao nato Vedete? Vedete? Come fate a fermarvi lì? E' quello il punto Ma E' morto? La guardia che siete Mi sparava e' morta Fede guarda Non vale citare nato Sto sclerando Sono arrivato fino al livello 5 Ok Dera Finalmente di nuovo a compagnia Tu arrivi Oh bene Con calma Non devo spaccare tutto Grazie Isabella Papa Per la donazione 099 Allora Dicevamo Tu fai questo Fai questo E qui devi riuscire Ad andare in quello di sinistra Come fai? E' stra difficile Se no E' a sinistra Mori per forza Però Non ti puoi Fermare Per poi andare Devi riuscirci al volo Se salti Prova e' già oltre Quindi E' un casino Grazie Massimo Bazzoni Per esserti abbonato Prova ad usare S Mentre stai Continuando a saltare lì Capito? Grazie Tutor Ciocchina Per esserti abbonato In modo che ti ralenti la caduta Si Il discorso è che Sono salti tutti al limite Davvero tanto al limite Cioè Pensando a quello Non è che saltate Oh mio dio Quanto è difficile Io non riesco a superare Questo livello Ve lo giuro Cioè Pensare Pensa che questo qua Iogon Se l'ho fatto al primo Dentro di voi E anche io Al primo tentativo Sono arrivato in fondo Non riuscivo ad arrivare Però dove si può adesso Comunque Steph Non lo so S No Prova un attimo Davvero Cioè Continuano a dire Che tutti hanno rivisto La live Che tu hai rotto Quello standard da sinistra Quindi tu non riesci A prendere la colpia Di sinistra E andare Capito? Eh perché mi sembrano Troppi i commenti Capito? No non si è rotto Cazzo è rotto I primi standard Di gonx I primi che becchi Perché adesso Lui ne ha Uno più avanti Che è quello destro E uno più indietro Grazie al dronix 12 Per la donazione in 0,99 Secondo me è tutto giusto È semplicemente Difficilissimo Io sono al punto Dove forse Finisce il livello Finito il livello Quasi Grande Natti Ti ripeto Lo stavano scrivendo In troppi Quindi mi sembra Anche poi assurdo Che magari sia una cosa finta Adesso magari lo stanno dicendo tutti Però prima lo leggevo tanto Io o è il livello più difficile Fino allora No no ma Sì È molto molto difficile Cioè bisogna capire Dove bisogna andare Effettivamente Ma forse Se è fatto bene Il primo salto Guarda che arrivi Già ad andare al centro In modo tale Che poi continui ad andare Alla sinistra No io volevo andare Partire già Alla sinistra Ha picconato Perché non riusciva a saltare E si è rotto Con lo standard È anche arrivata Una donazione a 2 Ero E' rotto lo standard Non stiamo scherzando Stanno dicendo tutti Di riguardare la live Che Cerca di capire Si rompono Si rompono Ragazzi Si rompono Si rompono Si rompono gli standard Non ho rotto uno adesso Cavolo Quindi praticamente La parte Sì la parte Ecco perché ci sono Le granate Per evitare Di farti tenere Il piccone Quindi è praticamente Impossibile Ragazzi Visto che avete rivisto La live Cioè in che momento È impossibile Ragazzi Ne ho appena sfondato uno Meno 11 ho letto Anche quindi Controlla tra 13 e 11 Gons Però se Dera Conferma che si possono Rompere gli standard Ne ho appena sfondato uno Ragazzi Allora no Hanno ragione Stefano Ho dato 5-10 minuti Che te lo stanno scrivendo E ma cosa devo fare? No infatti ragazzi Non ho dubitato Perché lo stavate scrivendo Davvero in In tantissimi Quindi Scusate che sembra Bastano Per esempio Che è fatto Che non si può rompere Nient'altro Quindi Però Io vi dico Che si può fare lo stesso Anche secondo me Secondo me Si può fare lo stesso Perché Perché Stef Lo stava per fare Deve rallentare Quando ci sono Quei padini Che ti portano avanti Siamo molti insieme Stef Sono al 5 Io comunque Io voglio vedere Se si può Riuscire ad andare Al centro E non nello standard Saltando Grazie Master Whoop E' un senso In 099 Perché se Riuscissi a far Quello sarebbe fatta Sì Prima c'era Poi non c'era più Dai dai Confermato Confermato Ok 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 E quale manca? Quello di sinistra Quello di sinistra? Lo vedi che non sono pari Non so se te ne rendi conto Quando salti Ma Cioè quindi era facilissimo Era praticamente Dovevamo partire da sinistra Esatto Solo che c'è Stata una picconata A caso Ok Se come fa Questa cosa che dico io Si neanche accordo Che hai picconato Perché l'hai fatto Distinto E hai alzato la testa Certo certo Ok Ok Immaginavo che fosse In un momento del genere Ok No ok Se come fa Adera Hai capito cosa Sto provando adesso? Grazie al drone X12 Per le due donazioni 099 E a Master Whoop Per la donazione 099 No forse non fa Per le vado già fatti Grazie Salvatore Valendino Per esserti abbonato Vabbè E grazie anche al drone X12 Guarda l'ha rifatta Quindi va benissimo L'ho ancora ringraziato Forse è impossibile Forse Senza quello standard A sinistra Curvare Anche a me viene il dubbio Però dovremmo Forse fa citare Perché a sto punto È giusto citare raga No vabbè Lui comunque ha messo Il fatto che la mappa Non si rompe Io picco i muri Non si rompono Evidentemente Gli standardi Sono immuni Grazie Alex2.0 Per le donazioni di un euro Però evidentemente Sono immuni E questa cosa Non la sapevo Raga Stef Sto sempre A proprio Un passo del checkpoint Ma muoio E sto al vostro Ma do Cioè Negli ultimi salti Quelli bruttali Oppure Ok Sì De la fa a citare Sto guardando Sì 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 Però se passa il ghiaccio Poi non ce la faccio Esatto E con il ghiaccio è impossibile Stare in quel cornicione Raga È quello che ho pensato Anch'io quando ti ho visto Farlo Stef Io sto citando Come? Eh guardami Sto citando Anche molto Ed è possibile Farlo Ma come ci sei salito? Con o senza ghiaccio? Allora Sono salito Non ci voglio credo Devi prendere il ghiaccio Povero Ok Però ti fermi agli standardi Dove cavolo sei? Ah e poi dagli standardi? Allora Parti da destra Ti fermi agli standardi Ok Cioè Hai capito? E poi parkour Sì parkour qua E cerchiamo di andare dall'altra parte Tanto Poi c'è il paddino Quindi In qualche modo Ok Grazie Gianfranco Scarola Per l'anzione di un euro Grazie Alex 2.0 Per l'anzione di un euro Grazie al Drone X12 Per altri 2.29 Grazie a voi che mi rendete sempre felice Grazie mille E grazie a Mattia Setanzi Per esserti abbonato Oh ma stiamo scherzando Adesso che riesco a fare questo E grazie a Mattia Setanzi Per esserti abbonato Non ha detto Eh vabbè Fai resto tilt Tu ti sei arresa? For fan No vabbè Voglio vedere questo pezzo Cioè me ne hai capito Leggevo testata dagli standardi Mi sono fermato Ho cercato di guardarti E tutto Quindi ormai Mi finisco questo livello Lo voglio vedere pure io Esatto Ma hai visto? Io sono qua Perfetto Perché io mi ero fermata Per leggere i consigli Bello Abbiamo risolto Dai Cioè io adesso Ora devi andare alla destra Andare qua Ok Buona fortuna Io ci provo Vai Cavolo È dura vero? Ma non lo puoi fare È lunghissimo Ma come cavolo fai? Non lo puoi fare tutto dal muretto È lontanissimo Sì No in realtà no Perché devi andare verso l'alto Poi Ragazzi è lontanissimo Quel punto Ti ho detto Questo qua è il livello più difficile E l'abbiamo reso più difficile Del dovuto Quindi è No Vabbè ma quella parte Dai sei rotto lo standardo Da amen Ce la fissi E ciao Mi servì per far cadere Come sei caduto Ma no Ma no Ma non ci spera Ma non fa È troppo lontano Credo che Credo che partendo da fermi Siano troppo lenti Sì Partendo da fermi Probabilmente È troppo lenti Perché c'è troppo a distanza Grazie Giuseppe Aprea Per l'agenzia di 099 Davvero Davvero difficile Credo che Non possiamo farlo È infatti Occhio Nat A meno che A meno che Io seguirei tutta la strada Allora io Rimango Togliti Vai Io rimango qua Così voi Potete andare Tranquillamente Stavate facendo il trenino Sì abbiamo rischato Di cadere tutto Non ha senso Andare là Lo so Però voglio vedere Almeno ti guardi il livello No Forse invece ha senso Perché vedo delle ruote Dici che se riuscissimo Non avremo comunque La velocità adatta Forse No da sinistra Aspetta Da sinistra Beh le ruote ci sono Sì raga Però Vedete quanto sono distanti Tra loro Quel salto è impossibile Se non hai un sacco di velocità Cioè tipo Dopo che tu salti Da qui a lì E quindi allora se fessi rovinato Il livello Quello standard rotto Sì però L'ha sbagliato lui Vabbè ma magari Non è neanche colpa sua Te la devi assicurare Che quella Vabbè ma Lui ha messo le ballerine Per quella Vabbè ma Vedi Cioè guarda Natto guarda adesso Così mi puoi dire tu Cioè vedi No Vedi E' proprio basato sulla speed È basato sulla speed Comunque Rimane un livello Che raga c'è Probabilmente un'ora e mezzo Per farlo Perché quei salti Sembrano davvero difficilissimi Però così non possiamo Proprio farlo a priori Quindi non c'è molto da fare Io mi sono proprio Buggato invece Cioè non posso più muovermi Da qua Che noia Ma perché non mi ha corso? Non lo so Così ho preso Un checkpoint attivo Ma io ho arrivato Tanto siamo Non ha senso Mi sono appena fatto 30 minuti Su un livello Che non potevo fare Esatto Essendo sì Raga comunque Questo è il codice Quindi per chi se la vuole provare Sono entrato nella mia isola Fatevi uno screen Fate quello che volete Prendetevi il codice Così ve la potete provare E non chiedete Ce l'ho mai più Ehm Volevo Però l'ho persa Vi facciamo Escape the dream Eh quella è carina Però mi sa che qua Al posto della massive Fortnite Detran Mi sa che io ho tolto L'impulse arena Magari ci possiamo fare Un pochino di quella Impulse arena Ah quella Ok ho capito Che può essere divertente Mi sa che ho tolto quella Però la posso rimettere Eh no Dobbiamo fare il live Match Per forza Sì Non fa togliere un codice Che noia A meno che non hai il codice Beh ma lo trovo in due secondi Il codice Basta cercare l'impulse arena Vai faccio così A me me lo faccio What? Non ho capito Allora Impulse arena Fortnite Cod Mi fa male la schiena Mi fa male la schiena Non so se è questa Proviamo Raga ho messo io tutto nero Quindi è normale Adesso torniamo Opla Ok Ehm Grazie Marco Lupi Per esserti abbonato Perché io La maggior parte di questi balli Non li ho presi Non lo so Secondo i balli Sono sempre quelle cose Che meritano un botto Tranne questo Che fa davvero schifo Questo ho fatto bene Non prende Sì È il peggior acquisto Questo per è bellissimo Non l'ho neanche visto questo Io ho mai visto Forse è in Giappone Possibile Aspetta Free for fall Actio È questa Non lo so Sì 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 Ma tutto è dranne che quella che doveva essere Secondo me Secondo me stiamo giocando un'altra mappa In quello stile Però Arrangiamoci Ehm Ditemi quando avete il tasto start Perché io non ce l'ho Io non ce l'ho Quando vede? Il tasto start game Io no Allora ancora non ha caricato Ah ce l'ho io adesso Grazie Surreal Power G per essere ti abbonato Samuela Power Samuela Power E vabbè Surreal Ha letto Power e ha capito Surreal Vabbè Raga dove sono sponato? Anche io non so dove sono Wow Io non ho una agenda diversa Olè Ok ci dobbiamo buttare giù con l'impulso Giusto? Sì è questa Comunque l'arena che c'era Future Red Ah ok Vabbè io sono già morto Grazie Vengo Accidenti Questa è vera sicuro Aspettate però Questa la devo prendere Ah c'è anche la Kip Inventory Meno male Boo Ma non che sia bellissima sta mappa Non ti ho ucciso? Ah sì che ti ho ucciso Maledetto Maledetto Facendomi ballare Eh ce l'ha fatta Ad era Ah no è Steph Già Non sto più capendo No ero io No no l'ho presa di la kill Ma perché l'hai presa tu Scusa È perché sono stato più bravo Ah mi sono così ammazzato Ti sto lanciando ballerina Oh ho ucciso Steph Anche Fede Sì Mi son casata per aver ucciso Steph Non ho visto le granate di Nat Oh ma Dai non è proprio la mappa più bella del mondo Però è carina Ho ucciso pure Gons È un po' bruttina Steph Ti dico la verità Non è niente di che Oddio Come mi ha ucciso Mi ha sparato Steph Buongiorno Aia Che mi ha fatto danno Io ho preso Gons Io ho preso Steph Di nuovo Ma che cavolo Mi è arrivata una random Non ce l'ho Vabbè A sto punto vediamo Chi fa più kill Entro la fine Non posso tirare nulla Niente Ma da dove le prendete le ballerine Scusatemi Al centro Ah ok Non ci sono mai andata Stavo sempre nei Negli angoli No ma cos'è Ma che Mi sono ucciso Allora Io ho sbagliato L'ho lanciata nel palo Come tu sei arrivato Ti avrei spinto A me mi piace Non so perché mi piace Io ho finito l'impulse Non ci credo Mi sono auto uccisa Ma qua non posso fare nulla Ma dai ma non è giusto Sta cosa Ah grazie No mi sono ucciso Agà io mi uccido da solo Gax Ti odio Ti ho preso Ti ho ucciso Dimmi di sì No No Ciao fare No 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 aspetta Non mi piace E tanto così è finita Due a cinque minuti Ah due a cinque minuti Sì sì Così proprio triste Per quello stavo continuando Nat Mi ha ucciso Steph come Sì perché ti ho mirato dal basso Però io sono di nuovo incastrato qua Guarda Fede che arriva dal nulla No Vabbè Fede Ho deciso Gonx e poi Nat dritti Ho finito tutto Ho finito tutto Parle di restare che è senza impulso Ho finito Chi ho l'impulso D'ora mi ha messo a tapicare Non posso prendere l'impulso È lo stesso problema che io È l'unica cosa che potevo fare Gon Il tipo è un demente Ma che ci ha buttato giù Grazie Anch'io poi sono rimasta senza impulso Ti rendi conto Nat Di cosa hai appena fatto Questa è guerra Cosa sta succedendo? Io mi trovo sempre Fede dietro Incredibile Almeno una kill la devo fare No mi sono buttato Sì non so perché Gonx Io quando arrivo nella mappa Mi trovo sempre a te in faccia Sempre Sempre Tempo è scasso Non c'è chi l'avete voi aga? Io sei Ok Boh non lo so 5 Buonissimo Ma no Questa volta Muori Ma che fortuna che c'hai Ridi Ridi Ragazzi Gonx mi sta uccidendo sempre Ma se la prima Le tiri a caso No dai Non ci credo Come ho 7 kill? No ma anche a me le segna sballate A me ne segna 9 Ma io ne ho fatte 9 Ho ucciso Dera Wow Ne ho fatte 2 No io ne avrò fatto Tipo un 6 Ma non 9 Assolutamente no Infatti non lo so Sono tutte sballate Probabilmente mi sta segnando anche lei Che di qualcun altro 11 Cioè vedi Ne ho fatta 1 No adesso ce le dice giuste No ha vinto Nat Infatti vedi io ne ho fatte 6 Ragazzi da me ho vinto io Anche da me ha vinto Dera Va bene Non sto capendo No era un po' Bella mappa Bella mappa Pensavo si fosse più carina Vabbè io non l'ho mai provata neanche Quindi diciamo che avevo poche aspettative Però l'unica cosa che rimaneva è dato che l'altra la pagata No certo certo Ma cosa c'è Actio Sai il nome di chi l'ha creato Steph 23 17 No non è Steph Allora questa è una S Ups Scusa C'è una T No è vero è una A È una C È una E Sono più scema di lui Ma a me sta caricando all'infinito Anche a me non riesco a tornare Sì ogni tanto si vaggano E raga direi che tanto ci fermiamo così Sì Che Siamo ormai per ore in live Sì e poi siamo a corto di mappe Di rientrare in Chizor su neanche il pensiero Perché altrimenti vomito No io per oggi basta Mi sono impegnata abbastanza Basta Vabbè ci siamo completati Avalanche E siamo andati bene avanti In quell'altra Che non ha nome Ma che comunque Non eravamo mai arrivati così avanti Chizor si invece è male Chizor si vabbè No vabbè Siamo comunque andati avanti anche lì Era la prima volta che la facevamo Sì per noi è la prima volta Quindi Dai siamo andati avanti anche lì Non era per niente male In ogni caso ci fermiamo così Speriamo che vi sia piaciuto Sto facendo quasi un outro Perché stai facendo un outro Non lo so Fede sono stanco Eh lo so Tre ore sono tante Sono tantissime Voi muovere Voi state continuando a giocare Tanto che non vi piace Sì per essere tiagonato Ma a me piace Stef l'ho detto Non so perché ma a me piace Ti sei rimasto a giocare pure a te E mi è venuta La live è chiusa A tutti che stanno salutando E tu che continui Niente Buona cena E ci vediamo domani Con un sacco di video Credo che domani Ne devono uscire quattro Sì guardate in che video Che sono usciti oggi Se non li avete visti No oggi ne sono solo due Anche se una da 25 minuti E niente Ci vediamo domani Ciao 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 Ciao